In parte, mamma, pensaci un po', per favore. Non hai calcolato il possibile disagio e la vergogna che potreste provare quando presenterete il papà di Tonio alla società? Sì, sarà un grande avvenimento, ma per chi? No, mamma, questo non è possibile, è soltanto una pazzia. Senti, perché non facciamo una cosa? Facciamo un matrimonio diverso, non lo so, con una festa mascherata, così ognuno viene come vuole e nessuno si accorge di niente. Ma no, Laura, non faremo mai una simile pazzia. Per la festa in maschera? Ma no, quella di presentare Tonio e suo padre in società, ai nostri amici. Senti, io non ci capisco niente. Beh, anch'io all'inizio non capivo, ma quando tuo padre mi diceva che voleva ingaggiare la miglior orchestra, organizzare un gran ricevimento, le partecipazioni, è stato allora che Cosefa ci ha fornito la soluzione. Cosefa? Oh, Lauretta, come stai? Bene. Sei ancora alzata? Non riuscivo a dormire. È preoccupata per questa storia della festa, del ricevimento? Ma no, no, Laura, non devi preoccuparti, lascia che ci pensiamo noi. Comunque voglio raccontarti tutto. Tuo padre e io stavamo studiando il modo più adatto per presentare Tonio e suo padre ai nostri amici. Quando arriva Cosefa a chiedere il permesso per andare in una fattoria vicina, per il matrimonio di una sua nipote che infatti si è sposata ieri. Doveva sposarsi fra una settimana, però hanno anticipato la cerimonia. Lo sai perché? Perché? Perché il suo fratello, il fratello di Cosefa, non stava affatto bene, stava per morire. E allora, per farlo assistere alla cerimonia, hanno deciso di... di anticiparla, ecco. È stato lì che tuo padre ha escogitato questo stratagemma. Ma perché? Qualcuno dovrà morire? Che succede? No, 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 cara, ho solo modificato un po' il piano che avevi ideato tu, Laura, ricordi? Ma cosa... Non dovrà morire nessuno, semplicemente la zia Milù si ammalerà. Fingerà di ammalarsi e di star per morire. Quindi, per questo motivo, anticiperemo il matrimonio perché la zia Milù possa assistervi. Allora questa storia della festa sarà soltanto una gran farsa, no? No, 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 cara, organizzeremo tutto quanto, chiameremo la migliore orchestra, faremo un gran rinfresco, manderemo a tutti le partecipazioni, ordineremo i fiori. Però, tutto questo sarà annullato perché la cerimonia dovrà essere anticipata e tu dovrai sposarti in tutta fretta. Bene. Un modo intelligente per sistemare le cose, però non avete trovato il modo di evitarlo, il matrimonio, o sì? Laura, disgraziatamente senza questo matrimonio, quell'italiano ci rovinerebbe. Beh, però sarà una cerimonia molto rapida. Saranno invitate solamente alcune personalità del paese e... Sposerai civilmente e basta. Sì, e basta. Come se niente fosse. E basta. Senti, mamma, con la società, senza società, con gli invitati, senza invitati, è sempre un matrimonio. E superando questo, dopo la cerimonia, ci sarà la luna di miele. Ma la cosa non vi preoccupa. Questo è un problema che dovrò risolvere da sola. Per favore, Teodoro, spegni le luci. È tardi, andiamo a dormire. Perlomeno quando si dorme non si pensa. Per favore, Teodoro, spegni le luci. Teodoro, spegni le luci. Ho cominciato a leggere. E ti sei addormentata con il libro in mano. Già. Bene, andiamo a letto? Sì. Com'è andata con Dardo? Oh, bene, bene. Prima abbiamo fatto un giro, poi siamo andati in un bar per bere qualcosa. Che ora è? Sono le tre e mezza passate. Ah, allora Dardo non è andato al suo appuntamento. No, ha chiamato allo studio e ha disdetto. Meno male. Perché? No, no, perché... Perché ero preoccupata. Avevo pensato... che forse avrebbe approfittato dell'appuntamento al suo studio per riaccompagnarti presto a casa e... E che cosa? E che non sarebbe più tornato. Pensi questo di Dardo? Perché farebbe una cosa simile? Perché? Perché? Perché papà non lo ha fatto? Mamma, gli uomini sono diversi da noi. A loro non piace avere dei problemi e non sopportano che qualcosa torbi la loro tranquillità. Bene, io... io me ne vado a letto. Ciao. Ciao. Come vede, signora, è una casa bellissima. Sì, e lo stile è molto elegante. Allora, ti piace? Ah, beh, non sono io a dove dare un'opinione. Certo, è una casa stupenda. Però non hai risposto alla mia domanda. Ti piace o no? È davvero meravigliosa, Ingrid, e inoltre ha delle cose che la rendono preziosa. C'è la piscina dove puoi prendere il sole, è molto bella davvero, c'è il campo da tennis, è da squash, direi un luogo ideale per viverci. Se abitassi qui, non uscirei mai. Sono in vendita anche ai mobili? È tutto in vendita. I padroni sono partiti per gli Stati Uniti e hanno portato via solo gli oggetti personali. E se lei vuole, può comprare la casa con tutto, esattamente com'è. È una buona idea. Farei solo qualche cambiamento. Per esempio qui, in questo angolo, al posto dell'Arazzo, io metterei un grande quadro a olio. Sì, è una buona idea, ma che soggetto sceglieresti? Una scena di caccia, una marina, o pensi a un soggetto più adatto? Il mio ritratto. Credo che sia importante quando si entra in una casa sapere chi è il padrone. Sembra che la signora sia interessata a questa proprietà. E qual è il prezzo? Beh, dipende dalla forma di pagamento. I padroni al momento chiedono un milione e duecentomila dollari, tutto compreso naturalmente. Offro un milione di dollari. Un milione di dollari? Non so se i padroni accetteranno. È il giusto valore della casa, prendere o lasciare. Nel caso accettassero, mi faccia avere subito i documenti, pagherò in contante. Se la signora permette, vado di là a fare una telefonata. Avvocato Johnny, quando avrà finito di telefonare, ammesso che lo faccia, chiami subito il nostro hotel e dica che preparino il trasloco. Ma, ma... come fai ad essere sicura che accetteranno? Ho detratto dalla mia offerta. Esattamente quel tanto che gli agenti chiedono per rendere interessante l'affare. Dubito che si sia preso il disturbo di telefonare. E ora andiamo via di qui. Perché a me i trasloghi mi mettono di malo umore. Signora, va già via? Sì, perché? Beh, i padroni hanno accettato. Ho avuto l'ordine di concludere l'affare. Lo sapevo. Senta, avvocato, prepari i documenti per il contratto. E se avesse dei problemi con le leggi argentine, chiami quell'avvocato che noi già conosciamo. Se veramente volevi comprare una casa, avresti potuto parlarne con me. Mi sarei occupato io della faccenda. Ma tu chi sei, tesoro? Un agente immobiliare. Tra poco tempo, secondo come ti comporterai, tutte queste cose non saranno che sciocchezze. Non aspettiamo l'avvocato Johnny? Sicuramente ci metterà un po' di tempo per discutere i dettagli con quella gente. intanto noi andiamo. Vorrei dare un'occhiata a questa zona. Voglio conoscere il quartiere in cui vivrò. Ah, no, 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 no. Niente candele, eh. Le candele per un pranzo non vanno bene. Toglili. Va bene. Ah, molto bene. Un bel mazzo di fiori in un vaso basso. Così si può parlare senza che diano alcun fastidio. Hai preparato il vino? Sì, signorina, come lei ha ordinato. Vino rosato e rosso. Bene. Il vino rosso deve essere aperto un po' prima, eh. Gli invitati saranno qui tra una mezz'ora ma al massimo tra 40 minuti. E il vino rosato? È quello, signorina. Bene. E quando arrivano gli invitati mettilo in... in un secchiello con ghiaccio, va bene? Va bene. Desidera altro? No, no. Ma tutto bene, nient'altro. Vado in cucina a vedere come procede il pranzo. Allora, Katia, è tutto pronto? Perché credo che tra poco arriveranno Laura e la madre. a meno che non ritardino perché dice che in questi giorni hanno molto da fare. Devono correre da un negozio all'altro e non hanno il tempo di fare altre cose come del resto succede per ogni matrimonio. Ma certo, certo. Senti, Tati, io vado un momento in cucina per vedere se tutto va bene. Sì. Tu per favore, chiama papà e digli di non far tardi. Non è bene far aspettare gli invitati. Pronto, Kike? Sono io. Sai perché ora hai invitata tua madre a casa di Oreste? Hanno fissato per l'ora di pranzo e credo che tra un'ora, un'ora e mezzo saranno tutti a tavola. Ah, capisco. Allora senti, facciamo in questo modo. Tra circa un'ora e mezzo tu vai là. Cerca di arrivare così all'improvviso, farà più effetto. Vuoi dire che Zia Milù ha accettato? Certo che ha accettato. Bene, allora dovremo presentarci lì con un'aria di circostanza, vero? Esatto. E per favore, cerca di non scherzare e di non bere prima di arrivare a casa di Oreste. Va bene, d'accordo. Ciao papà. Teodoro, hai fatto molto male a dire a Kike che io ho accettato, perché non sono assolutamente disposta a passare per morta. Ma tu non dovrai affatto passare per morta. Dovrai soltanto fingere, niente altro. Dovrai fingere di essere in punto di morte. scordatelo. La morte non concede scampo a nessuno e alla mia età non è il caso di scherzare con queste cose. Zia Milù. Crede con l'indirizzo della sua nuova casa. Dov'è che si è trasferita? Beh, da quanto è scritto sul biglietto sulle colline di San Isidro. Ciao, buonasera. Come sta il mio tesoro? Dov'è la mamma? È in camera sua, è molto arrabbiata perché lei non è tornata a pranzo. Ma l'ho avvertita che avrei apprezzato con Carla. Io non lo so, comunque sua madre è di pessimo umore. Beh, c'era da aspettarselo. Ah, finalmente sei tornata. Ciao, ma tu non sei uscita? No, non avevo voglia. Ma come? Non dovevi andare dal parrucchiero? Dovevo. E non vai? No, non ho lo stato d'animo per ascoltare le chiacchiere delle altre signore. Ma, volevi farti la messa in piega? avevi detto che saresti uscita? Non lo so, non ho ancora deciso. E Edoardo? Che cosa? Niente, ha chiamato. Sì, ha chiamato ieri ma è sempre in viaggio e non credo più molto ai suoi viaggi. Come? E perché? Dice cose molto strane. Confonde i nomi delle città, prima dice che abbia Blanca poi invece ha Neuché. Mi sembra che stia inventando scuse. Dai, mamma, se così fosse non ti chiamerebbe. Può darsi che chiami per buona educazione. Dici? A me sembra invece che questo proprio non sia il suo forte. E comunque c'era da aspettarselo, no? Comunque a me non interessa. Io spero davvero che non ti interessi, mamma, e nemmeno ti interessi quel suo amico, Bruno. Non è più venuto alla discoteca. Sai, De Lì, credo che tu abbia ragione. Oggi tutti gli uomini sono molto instabili e volubili. Sì, è vero. Ah, mamma, c'è della posta per te. Ecco, tieni. Ma non mi sembra Di Dardo. È Ingrid. Ha mandato un biglietto con il suo nuovo indirizzo. Come? Si è trasferita? De Lì, per favore, è una settimana che sta nella nuova casa. Non ricordi che ha telefonato? E ora mi ha mandato il nuovo indirizzo. È una delle persone a cui dovrò andare a fare una visita. Senti, mamma, aspetta un momentino che salgo tutte le cose dal tavolo. Ma no, che dici? Sì, mi metto sul divano, posso studiare anche lì. Ma no, devo solo appoggiare questi vassoi qui sopra. Figurati, io non volevo neanche disturbarti, solo che oggi sono talmente tante le ordinazioni che in cucina non ho più spazio. Beh, allora adesso ti libero anche il tavolo, a me non costa niente studiare sul divano. Tu non ti preoccupare, non ti muovere di qui. A che punto siete in cucina? Abbiamo quasi finito, Bettina sta preparando le prune allo sciroppo, io devo friggere i frizzoli e le crocchette di gamberi e finito. Finito, termino di scrivere una cosa e poi ti raggiungo in cucina. Bene. Eila, Eila, ciao, come stai? Entro pure. Bene? Finalmente. Signora Amalia, come sta mia cara signora? Bene? Bene? Eccolo, come stai? Che non muore e si rivede. Ha sentito l'odore dei suoi dolci. Giù le mani, sai che ti conosco io. No, guarda, quei dolci sono tutti contati. Va bene. E se vuoi mangiare qualche dolce devi venire in cucina. Vengo, vengo, ci può contare. Lo so bene, caro mio. Ci può contare. Come va? Io, come sempre, studio e quando ho tempo aiuto la mamma. So che andrai a un congresso. Sì, vado al Mar del Plata, parto fra 15 giorni e adesso, risolto il problema dei soldi, sono più che tranquilla. Dardo me li ha già anticipati per pagare l'iscrizione. Che fortuna, questa va al Mar del Plata. Sta zitto che ti sente la mamma, per favore. Va bene. Attacca con la solita cantilena, anche ad ufficio. Io comunque ero venuto per parlare con Dardo. A proposito, dove? È in ufficina. No, ci sono passato, c'era suonando e mi ha detto che veniva a casa. Allora non lo so dove. No. Sono preoccupata per Dardo. Perché? È stranissimo, da quando si è messo con quella bionda, quella tipo ha coi soldi, sai? Non ci sta più con la testa? Sì, sì, lo so, anche Nando mi ha accennato qualcosa su questa faccenda e ora vado a vedere se lo trovo da qualche parte. Bene. Ah, aspetta un momento, forse è andato al bar. Senti una cosa, Frank, fammi un piccolo favore. Parla con lui. Parla? Degli un consiglio. Sì, aiutalo a chiarirsi un po' le idee che ha in testa. Sì, no, 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 quello che manca a tuo fratello, ragazza mia, è un pizzico di follia, è un tipo troppo pacato, troppo tranquillo, sì, troppo. È vero, successo, si è messo con quella bionda dell'alta società che gli sta rovinando la vita, ti sembra poco? Sì, certo, è vero. Ah, senti, fammi un favore, ho qualcosa che dovresti dare, dare a Bruno. Ecco. Cosa devo dare? Ecco, dagli questo. Che cosa sono? Sono degli inviti per la discoteca. Ah, è così. Gli inviti per Bruno li hai trovati, vero? Sì, perché? Come perché? Ma se l'ultimo invito che ho dato a te non l'hai usato. Certo, perché non ho trovato nessun uomo di questa casa disposto ad accompagnarmi. È un dramma, una tragedia ogni volta che chiedo di essere accompagnata. bene, quando vuoi andare in discoteca e non trovi qualcuno che ti accompagni non devi fare altro che chiamare me, sono disposto ad accompagnarti. Ti ringrazio molto, con te non esco. Perché no? Perché non esci con me? Perché ti conosco, mio caro Frank, e ti conosco tanto bene quanto le mie tasche. Sì, io ti conosco perché ero ancora una ragazzina quando tu vivevi qua e sono al corrente di tutte le tue malefatte. No, no, ti ringrazio tanto ma tu sei un uomo molto pericoloso. Cosa? Io? Io pericoloso? Io? Ma povero Frank, come puoi credere a tutte le voci che circolano su di me, a tutte quelle dicerie? Sono soltanto insinuazioni delle male lingue del quartiere. Non sono dicerie, caro mio, ti conosco bene. Te lo ripeto, sei pericoloso. Sì, sì, eppure quello che vuoi, ma chi corre pericolo in questo momento sono io. È meglio che vada a cercare Dardo. Se mi vede male mi ammazza. Ciao, ci vediamo. Ciao, presto. E Frank, dov'è? A cercare Dardo. Ai, 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 se non fosse così... Cosa? Ehi, cosa stavi dicendo? Sta bene attenta, eh. Sta bene attenta perché io ti ammazzo di botte e cerca di non prendermi in giro, chiaro? Perché tu mi conosci bene e io ti ammazzo. Ma tu devi essere impazzita. Mia figlia che mette gli occhi su un Don Giovanni come quello. Ci mancherebbe soltanto questo adesso. Ma stavo solo scherzando. Ah sì, era uno scherzo. Ma guarda un po' che bello scherzo. Con uno sfacciato come quello non si deve scherzare, cara mia. Non si deve scherzare, capito? Perché io... Va bene? Perfetto. C'è solo da mettere il bottone e fare un occhiello dove potrà appuntare un garofano e dopo sarà pronto. Ecco sì. È perfetto. Come sto? Sei più elegante di un bersagliere. mi dica, non farò brutta figura? Assolutamente. Mi diaretta, abbia fiducia in me. Non dimentichi che sono il sarto del dottor Teodoro. No, non è per il suo lavoro, è per me. Non vorrei sembrare goffo con un abito così elegante. avrà la camicia adatta e il papillon. Come il papillon? Io pensavo di mettere una semplice cravatta. No, no, no. Ci vuole il papillon per una cerimonia come il matrimonio. Togna è pronto, l'ho portata. Vengo subito, vado a farmi vedere e torno su. Chi c'è là fuori? No, esco un momento. Come? Si fa vedere in paese? No, mi faccio vedere dal mio cavallo, non vado in paese. Ma sei imbazzito? Ma cos'è questa storia? Vai a farti vedere col vestito del matrimonio dal tuo cavallo? Ma tu sei matto, ma che te ti vengono in destra? Ma che ne sa il tuo cavallo di abiti da cerimonia? Ma come? Lui capisce tutto, è molto più intelligente di quanto pensi, papà. Appena lo chiamo viene di corsa. E torno subito. Mamma mia, questo figlio è ammattito, va a mostrare il vestito al cavallo. Ma è roba da matti, questo cretino, invece di pensare alla sua fidanzata che è tanto fine, colta, e invece di pensare al matrimonio, va a mostrare il vestito al cavallo. Sì, senta, intanto vuol provare il suo. Il mio? Sì, Lui li ha già provati ieri, ora proviamo la giacca. E va bene, riproviamo. Il cavallo. Guarda, io non è che voglio metterti delle strane idee in testa, ne tantomeno voglio parlare al male di Dardo, però tu sai che... E' come... E' come se fosse sulla luna, ma lo sai che ci ha messo due ore per fare una placiatura? È un fenomeno. Ma dimmi una cosa, se lui è tanto innamorato di questa donna, ascoltate, se hai innamorato, perché non se la corri? Ma tu pensi che sia facile stare insieme a una donna come quella? È una spesa continua, ci vuole un patrimonio, ogni volta che esce un whisky, uno spuntino, un film, un localino, e chi paga tutto questo? Paga Dardo, ma poi i conti non tornano, e lui deve mantenere il suo fratello, Carolina, mantiene se stesso, lui mantiene la madre, e l'altro giorno ha dovuto comprare non so che cosa a Bruno per l'università. Ah, però Dardo è un idiota, perché deve sprecare tutto il suo denaro per queste... Ma certo, per te è tutto facile, perché trovi sempre qualcuna piena di soldi. Che sputa? Che sputa? Dardo io non siamo così bravi, non siamo tagliati per queste cose, vieni a vedere, ce l'abbiamo il lavoro o non ce l'abbiamo? Caro mio, di lavoro ne abbiamo anche troppo, ma non procede, questo perché? Perché lui non c'è con la testa, sai cosa voglio fare? Cercherò di dare una mano al nostro amico per risolvere questo problema, va bene? presentagli un'altra ragazza, una che sia meno snob, così si toglie quella dalla testa. Il problema più grosso, tu sai qual è? Che anche lei è innamorata cotta di lui l'altro giorno quando l'ho incontrata non ha fatto altro che chiedermi di Dardo, voleva sapere dove aveva la concessionaria per venire a comprare una macchina. E allora tu, portala qui, portala qui, così la vede la concessionaria, venga signora, venga a vedere la concessionaria. Ci sono, così li inviteremo ad uscire con me e con la vecchia. Chi? Quella piena di soci che esce con te? Eh sì, lei e Marzia sono molto amiche, perlomeno usciamo insieme così risolviamo questo problema. Come? Vuoi dire che uscirete in quattro? Credi davvero che funzionerà? Beh, non so se funzionerà ma certo male non gli può fare, almeno finché non si toglierà quella donna dal cervello. Ma l'unico problema con Dardo sai qual è? E quando beve non sa più quello che fa, perde la testa completamente. Perlomeno in discoteca nessuno se ne accorge, ognuno fa gli affari suoi, sai com'è? Guarda, l'altra sera era talmente su di giri che sembrava fosse al finale dei mondiali di calcio. No, 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 calma. Vacci piano, vacci piano con il calcio. Il calcio è una cosa seria, non confonderlo. Ma chi ti ha detto niente? Non c'entra niente con il problema di Dardo. Non c'entra niente con la vostra faccenda di cuore con le donne. Stai bene attento a quello che ci si fa. Oh Dardo, come va? Come stai? Tutto bene, vero? Sì, sì, ma tutto bene. Hai visto? Sta peggio di quanto immaginassi. Non vorrei disturbare il suo lavoro, ma ho un appuntamento. Devo discutere di una questione con il mio avvocato. Se vuole, sospendiamo, madame. No, non importa. Ma se dovesse disturbare il suo lavoro, allora sì. No, affatto, non si preoccupi. Mi scusi, signora. Il dottor Carlos le vorrebbe parlare. Lo faccio entrare. Va bene, signora. Può entrare, dottore. Grazie. Buonasera, signora. Spero di non disturbarla. No, affatto. Lei è in perfetto orario, come sempre. Ci sono delle novità? In primo luogo, per quanto riguarda la casa, è quasi tutto sistemato. Ho già provveduto alla registrazione e fra qualche giorno sarà legalmente tutto a posto. Non è della casa che mi preoccupo. Bene. Per quanto riguarda l'altra questione, ho raccolto alcune informazioni in seguito alle mie indagini. Quella persona della quale le avevo parlato non fa più parte della vita di quell'uomo. Per caso quella che gli ha redato l'appartamento? Proprio lei. Continui pure. Tuttavia, madame, e spero di non offenderla con questo, a me risulta che il suo appartamento sia molto frequentato, ma sempre da ragazze diverse. E con queste ragazze spende molto denaro? No, assolutamente. Non è certo uno di quei tipi abituati a sperperare. Al contrario, sembrerebbe che fossero gli altri abituati a spendere per lui. In sintesi, lei sta cercando di dirmi che è un calcolatore e che io faccio un pessimo affare. Mi fa piacere che si preoccupi per i miei interessi, però questa compiacenza fa parte del mio gioco. Non mi importa di ciò che ha fatto o che fa. A me importa solo quello che farà. Ed io le garantisco che questo sarà fatto esattamente come io pretendo che sia fatto. Ecco la spremuta che ha chiesto. No, 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 non è per me, è per la zia Milano. Aspetti un momento. Sì? E gliela porto io. Bene. Bene. Zia Milo. Sì. 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 Zia Milo. Non parlarmi, sono arrabbiata con te. Su, via, zia Milo. Ci ho ripensato. Tu hai tutte le ragioni del mondo. Davvero? Ma certo. Faremo il ricevimento, zia Milù. Daremo una bellissima festa come tu vuoi. Daremo una gran festa? Una festa come non si è mai vista qui a Santa Regina. La spremuta. Per me? No, io non bevo spremuti a quest'ora. Ma come? L'hai chiesta tu stessa. L'ho chiesta io. Sì, è una spremuta d'arancio. Bevila subito prima che diventi amara. Allora è sicuro? Il sicuro daremo una bellissima festa. Una festa meravigliosa, zia Milù. Ho fatto bene a ripensarci. E poi sai, Laura è mia figlia. La mia unica figlia. Pronto? Tenuta Santa Regina. Sarà una festa meravigliosa, zia Milù. Dottor Teodoro? Sì? La chiamata interurbana che ha chiesto per Buenos Aires. Ah, bene. Vengo. Pronto? Parlo con la casa del dottor Oreste? Sì, per favore, chi parla? La cameriera? Senta, signorina, ho bisogno di un favore. Dovrebbe chiamare mia moglie. Si chiama Fina. Sì, è urgente. Le dica di venire al telefono. Sì, si tratta della zia Milù. Sta molto male. Teodoro! Che cosa stai dicendo? Io sto bene, anzi molto bene. Scusate, vado a rispondere. Certo. Pronto? Teodoro? Che cosa c'è? Per favore. Sì, 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 sono Teodoro. Per favore, vieni alla tenuta, ma subito, prima che puoi. Con Kike? Sì, e anche con Laura. La zia Milù sta molto male. Sì, e sta per morire. Ma che cosa stai dicendo? Io non mi sento... Oh, mi sento... Oh, mi sento male. Sei tu? Fina? Hai capito bene? Venite subito. Subito, sì. La zia Milù si è sentita male. Credo che sia per morire. Hai capito? Ma che cosa stai dicendo? Io, io, io mi sento... Morto, morto, morto. Pronto? Fina? Mi hai sentito? Sì, venite subito. Subito, certo. La zia Milù sta molto male. Credo che sia per morire. Sì, hai capito? Ora, cara, devo lasciarti. Sì, venite subito qui. La situazione è disperata. Josefa! Josefa! Sì, dottore. Oh, santo cielo, cosa è successo? Josefa sta male, è svenuta. Oh, povera signora. Mio Dio, Vergine Santa. Ma come è successo? Stava tanto bene. Oh, signorina Milù, poveretta. Io sto andando al telefono e improvvisamente si è sentita male. Oh, Dio mio, Dio mio, dottore. Dobbiamo subito chiamare il medico. Per favore, Josefa, va subito a prendere dell'acqua. Sì, sì, vado. Ma dottore, stava bevendo la spremuta. Sì, sì, lo so, lo so, ma per piacere vai a prendere dell'acqua. Sì, signore, vado subito. Sì, signore, vado subito. La sola cosa da fare è tornare a casa, prendere la macchina e andare di corsa alla tenuta. Sì. Lei è molto preoccupata. Se vuole posso farvi portare in elicottero alla fattoria. Oh, no, 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 davvero, la ringrazio. Io non sono mai andata in elicottero e credo che mi sentirei ancora più nervosa. Preferisco andare in auto. Come vuole, però sappia che sono a sua disposizione. Grazie, grazie. Scusate se ce ne andiamo via così, di corsa. Io non so cosa dire, spero solo che non sia grande. No, io non credo, perché quando siamo partiti la zia Milù stava molto bene. Sembrava davvero in ottima salute. Allora andiamo, Laura. Sì, ma... Vi aiuto a portare i pacchi in macchina. Ah, i pacchetti, è vero. Sono così nervosa che mi stavo dimenticando i nostri... Chi guida l'auto? Guido io. Volete che vi accompagni? No, Katia, grazie, non è necessario. Chi vi accompagnerà alla tenuta? Sì, che lui verrà con noi. No, no, in questo caso faccio venire il mio autista e vi accompagnerà lui alla vostra tenuta. No, dottore, la ringrazio. Già le abbiamo dato tanto... Tati, facciamo una cosa. Tu guiderai l'auto di Laura e io vi seguirò con la mia. Sì, così vi accompagniamo a casa e saremo più tranquille. E nel caso aveste bisogno di noi, saremo a vostra disposizione. No, no, ve lo assicuro, non è il caso che vi disturbiate tanto. Laura, non è nessun disturbo. So quanto sei legata a zia Milù e so anche che fingi di essere tranquilla. Quindi preferisco accompagnare... Tati, dopo ti accompagno con la mia macchina, va bene? Allora andiamo su e vedrete che andrà tutto bene, non vi preoccupare? Voglio, arrivederci, signor Laura. Arrivederci, signora. Di niente, non si preoccupi. Tati? Ciao, papà. Vi accompagno alla porta. Non perdiamo tempo, portiamola in camera sua, il medico sta arrivando. Oh, un momento, dottore. Prima devo salire in camera della signorina Milù per riassettarla. Sa, oggi è il giorno delle pulizie generali, è tutto sottosopra, il materasso e... Non importa, non importa, Zeffa. Portiamola in una stanza qualsiasi, quella di Laura, non so, basta che sia in ordine. Va bene. Attenzione. Stia tranquillo, signore. Oh, Dio mio, fa che non succeda niente la zia Milù, proprio ora che era così contenta per il matrimonio, Dio mio. Oh, Dio mio, povera signorina, è tutta gelata, dottore. Che cosa? Ma, speriamo che il medico arrivi presto. Dottore, che cosa facciamo ora? Cosa fa? Lei rimanga qui a fare le compagnie, va bene? Io penserò al da farlo. Sì, stia tranquillo, non mi muoverò da qui. Meno male che c'era tuo padre alla fattoria. Immagina un po' se fosse successa una cosa del genere mentre la zia era sola con la servicola. Già, ma sai, papà è lì per i preparativi del matrimonio e per la festa. È stata una fortuna. Io ho preparato tutto. Tu vai a cambiarti? Mmm, e perché? Andiamo alla tenuta, no? Mamma, non mi sembra il momento più adatto per cambiarsi e preparare le valigie. Ma chi che non c'è ancora? Mentre lo aspettiamo, non costa proprio niente prendere qualche vestito e metterlo in valigia. Comunque ho preso anche i tuoi vestiti. Ascoltami, perché non sali in camera tua e prendi lo corrente per il trucco? A questo io non ho pensato. È indispensabile, vero? Oh, ma guarda, mi tratta come se avessi commesso un crimine. Se tuo fratello fosse qui partiremmo subito, no? A proposito, perché tarda tanto? Oh, eccolo che arriva. Questo non può essere che mio fratello. Chi che ha uno stile di guida è inconfondibile, non si può certo sbagliare. Per favore, guardi se è mio figlio e se è lui, metta le valigie nell'auto. Andate tutti e due con lui? Sì, andiamo con una sola auto, o la mia o... Salve a tutti! Finalmente, chi che stavamo aspettando te, ma dove ti ha ricacciato? Sono passato a casa del dottore Oreste perché ho ricevuto un messaggio di papà e mi ha chiesto di avvisarvi. Sì, ci ha telefonato. Ah, bene, allora sapete già della zia Milù. Sì, sì, certo, ma ora andiamo, va bene? Dobbiamo fare benzina perché viaggeremo di notte. Allora, non vuoi cambiarti? Ma perché, mamma? Non c'è bisogno, andiamo solo alla fattoria. Va bene, Tati, è ora che noi andiamo perché qui siamo soltanto d'impaccio per Laura e la signora Fina. Assolutamente, anzi, non so come ringraziarvi. Allora, Laura, per qualsiasi necessità chiamaci pure a casa e per favore non fare complicati. No, non faccio complicati. Ciao, ciao. Vi telefoneremo per avere... Sì, grazie. Ciao, Laura. Vi accompagno alla mattina. Ciao, Tica. Ciao, grazie. Ciao, Tati. Grazie ancora. Perché ci hai messo tanto ad andare a casa di Oreste e tornare? Beh, perché ne ho approfittato per passare da una stazione di servizio, ho fatto controllare la macchina, ho cambiato l'olio e... Basta. Ma perché non hai fatto tutto stamattina, visto che già lo sapevi? No, lo sapevo e non lo sapevo, perché oramai lo conosco bene, tuo marito. Lo sai anche tu che da un momento all'altro lui cambia programma. Stavo facendo i conti, sai, stavo pensando a questa storia del matrimonio, non devono passare 15 giorni dopo le pubblicazioni, perché 15 giorni saranno domani, quindi oggi è escluso che si possa fare il matrimonio. Shh, parla a bassa voce. Ah, per favore, puoi portarmi giù quella scatola che è in camera mia, è sul tavolo. Il vestito da sposa della signorina Laura? Sì, ne approfitto per portarlo alla tenuta. Non si confonda, eh. A lato c'è un'altra scatola. E la tua roba, Kiki? Quale roba? Ah, il vestito per il matrimonio. Beh, ho già messo tutto nel portabagagli della macchina, è tutto pronto. Allora, andiamo? Sì, aspettiamo che la cameriera porti gli altri pacchi e poi partiamo. Senti, ma questa storia della zia Milù che sta molto male fa parte del piano, vero? Ma certo, sta tranquilla, cara. La zia Milù per fortuna gode ottima salute. Ah, ecco la cameriera, allora partiamo. Io pensavo che avremmo fatto questa messa in scena fra dieci giorni. Vedi, queste cose dobbiamo farle rapidamente, perché se facciamo passare altro tempo inutilmente possiamo perdere anche i soldi che abbiamo anticipato per il rinfresco, l'orchestra, i fiori, insomma tutto. Allora andiamo. Andiamo. Allora dottore, non so, è come in uno stato di sonno profondo, ma apparentemente è un sonno del tutto normale. Quando lei mi ha telefonato ho pensato si trattasse di un ictus cerebrale. Ritengo sia meglio portarla all'ospedale. Crede che potrà riprendersi? Il polso è debole. Ne somministrerò della coramina per ripristinare un normale battito cardiaco. Certo, va bene dottore. E inoltre la pressione è molto bassa. Dottore, è in pericolo di vita. Vedi, se la pressione continua a scendere, alla sua età è un fatto molto pericoloso. Comunque quando verrà ricoverata in ospedale potranno farle tutte le analisi necessarie. Non ha l'aspetto di una persona colpita da ictus. No, 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 ha avuto un malore e poi è caduta. L'abbiamo fatta distendere sul divano e lì si è addormentata. Sì, capisco, però mi di a retta dottor Teodoro, è il caso di portarla in ospedale. Bene, tra poco arriverà mia moglie e decideremo insieme. D'accordo? Prego. Josefa? Sì, signore. Per favore, rimanga lei con la zia Milone. Sì, sì, signore. Che cosa devo fare? Allora, le lascio la ricetta della coramina e delle altre medicine, in ogni caso, qualora ci fosse qualche problema, mi chiami. Mi dica, lei è contrario al ricovero in ospedale? No, ma in questo caso preferirei portarla a Buenos Aires, è più sicuro. Sì, sono d'accordo anch'io. Le posso offrire un tè, un caffè? No, la ringrazio. No, grazie. Vede, io, quando lavoro, non prendo niente. Anzi, adesso devo passare dal potere dei polacchi. I gemelli, sa? Pare che non stiano bene. Dottore, già che è qui, ne approfitto, vede il nostro medico di Buenos Aires, mi ha prescritto qui. Ah, è un tranquillante. Beh, a quanto pare lei è molto nervoso, dottor Teodoro. Questo è un tranquillante molto forte. Sì, 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 lo so, lo so. E mi dica, quante compresse prende di solito? Una, una sola, ma se sono molto nervoso è due. Accidenti, però con due di queste compresse inevitabilmente si addormenterà, è molto forte. E lei crede che... che possa correre qualche pericolo prendendone due? Lei no, è un uomo ancora molto forte, ma per un soggetto debole potrebbe essere pericoloso. Ma in ogni caso, ne prenda una sola, è sufficiente. Una ogni quattro ore? No, è troppo. Una ogni sei ore. L'effetto di questa medicina dura almeno sei ore. Ma accetti il consiglio di un medico di campagna. Non prenda questo tipo di medicina. E' meglio un calmante leggero o al limite un infuso di tiglio. Sì, ma un infuso non basta a risolvere i miei problemi. Bene, dottore, io vado. L'accompagno, la prego, dottore. Signor Teodoro, se ha bisogno di qualche cosa mi chiami. Senz'altro e grazie di tutto. Arrivederci. Arrivederci. Così ha un effetto di sei ore. Fra sei ore dovrò fare in modo che la zia Milù continui a dormire. Juan! Juan! Sì, dottor Teodoro. Per favore, vai subito alla fattoria del signor Sandro. E digli di venire con Antonio, va bene? Bene. Che vengano subito perché la zia Milù sta male. Forse è meglio telefonare. No, 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 il loro telefono è guasto. Sella subito il cavallo e va. Allora? Che te ne pare, amico? È perfetto. Guarda. Guarda. Guarda com'è lucido. Ti piace? Credi sul serio che ti risponda? Hai visto? Ha detto di sì, ha detto che gli piace. È solo un po' offeso. È offeso con me perché non mi presento al matrimonio in sella con lui. Tu dici di no. È perché non lo porto in chiesa. Tonio! Juanito, che c'è? Vieni, vieni pure. Buonasera, Tonio. Ho un messaggio del dottor Teodoro. Ha provato a telefonare ma il vostro telefono è guasto. Sì, non funziona. Mi ha mandato qui per avvertirvi che la signora Milù sta molto male. Tu e tuo padre dovreste andare alla tenuta prima possibile. Va bene, vengo subito. Tito, io vado là. Dì a papà di venire dal dottor Teodoro. Vai, fa presto. Beh, a me sembra che vada bene. Non me ne intendo molto a dire la verità. Per me è un sacrificio mettere una giacca come questa e poi dovrò tenerla per tutta la festa. Beh, come vi sembro? Sì, direi che questa giacca le sta a pennello. Beh. Davvero? Allora mi sta a pennello. Direi che è perfetto. Sapete quale sarà il sacrificio più grosso per me? Portare quelle maledette scarpe appundite. E signor Sandro? Che c'è? Tonio mi ha detto di avvisarla che è andato alla tenuta Santa Regina. Sembra che sia Milusti è molto male. È slitto a cavallo ed è partito. Tonio è andato a cavallo? Sì. Vestito con l'abito che indosserà per le nozze? Ma quel ragazzo ha perso la testa e quella è matta. Torio! È già partito, Madonna Santa. Ma come gli saldi in testa a quelle di andare con il vestito del matrimonio a cavallo? Ma non ce l'ha un po' di cervello quel figliolo, mannaccia? La zia Milusti sta male, eh? E sta a vedere che ora quella vecchia pazza mi rovina la pezza del matrimonio. Mi sorprende signora. Le confesso che non oso chiederle che cosa pretendo. Dottore, aspetta a me e fa le domande. Ha una donna? È stato sposato? Ha qualche figlio? Ha commesso truffa o ha rubato? No, no. Ha fatto. La sua pedina penale è pulitissima. Non ha mai avuto guai con la polizia. L'unica cosa è che a quanto pare non ha dimora fissa e che spesso è stato coinvolto in scandali amorosi. E se lei mi permette un'osservazione, signora? Secondo me non è una persona raccomandabile né degna di mostrarsi in sua compagnia. A parer mio, la presenza di questo ragazzo potrebbe nuocere la sua reputazione. Che cos'è la reputazione, dottore? È solo l'idea che gli altri si fanno di una persona. Ma a me non interessa. Non si preoccupi. Io mi preoccupo solamente di poter dare un discreto giudizio su me stessa. Ha qualcos'altro da dirmi a parte le sue opinioni? Sì, signora. Ho qui una busta contenente i dati che lei mi ha chiesto. Il certificato di nascita, le fotocopie, gli altri certificati, c'è tutto. L'ho ricevuta proprio oggi dalla persona che ho mandato a Santa e del Mira perché indagasse all'ufficio del registro civile. Bene, la metto sul tavolo. E ora le chiedo scusa, ma sono stanca e vorrei sospendere. Anche la luce sta cambiando. Andiamo avanti domattina? Sì, domattina alla stessa ora. Bene, senz'altro. Signora, non vuole controllare le informazioni? No, in questo momento no perché non ho gli occhiali. Dottor Carlos, sarà meglio che lei vada perché da un momento all'altro arriverà Frank. E non vorrei che la trovasse qui. Va bene, a domani allora. A domani. Sì, signora. Dov'è l'avvocato, signorina? È andato in piscina. Gli dica di venire subito e di chiamare l'agenzia investigativa. Voglio sapere se il rapporto che ha richiesto è stato completato. Va bene, signora. Juan, prendilo. Entri, signor Donio. Dov'è il dottor Teodoro? È su, nella camera della zia Milù. Sì, appena l'ho saputo sono così. Sì, il dottor Teodoro ha detto che era ora di dare la medicina alla signorina Milù. Sì, ho capito, va bene. Lei, lei aspetta un momento qui che vada da Pisarro, eh? Sì, sì, vada da Pisarro, vada. Però, per favore. Non ci preoccupi per me, posso anche aspettare in piedi. Si metta seduto. Cosa è stata? Che è successo? Niente, zia Milù, sta tranquilla. Ora prendi la medicina che ha ordinato il medico. Non mi sento bene, Teodoro. È come, come se fossi in fondo a un pozzo buio. Prendi questa, ti sentirai meglio. Ecco così. Ora ti sentirai molto meglio, vedrai. Mi sento male, Teodoro. Non vedo, non vedo, non vedo, Teodoro. Calma, ti stiamo in un'altra. Fra poco starai meglio. Ho mandato a chiamare Laura, Kike, Fina e fra poco arriveranno tutti, sai? Mi scusi, dottor Teodoro. Si? Il signor Tonio è arrivato. Appena ha ricevuto il suo messaggio è venuto subito qui. Si fa bene, lo faccia passare. Chi è arrivato? Tonio. Tonio. Ti ricordi del matrimonio? Si, la festa. La grande festa per il matrimonio dei ragazzi. Che cosa è successo? Un malore. La zia Milù ha avuto un malore. Sta molto male. Posso entrare? Certo. Zia Milù. Ah, sei venuto, Tonio. Certo, zia Milù. Oh, sono contenta che tu sia qui. Poco fa parlava di te, Tonio. Zia Milù vuol vedere il tuo matrimonio. Oh, certo, certo. Il tuo matrimonio con Laura. Il tuo matrimonio. La festa. La grande festa. Non mi lasciare sola, Tonio. No. Sembra che stia migliorando. Prima non parlava. Milù. Zia Milù. È svenuta di nuovo. Ma le ho appena dato la medicina che ha prescritto il dottore. Non respira più, dottor Teodoro. La coramina ha prescritto. La coramina? A che cosa serve? Serve ad accelerare il battito. È quella che gli ha dato prima. Permesso. Gliel'ha data prima? No, no, quella era un'altra medicina, Tonio. Dottore, dov'è la sua auto? È in garage. Mi dia le chiavi, per favore. E cosa vuoi fare? Vado a chiamare un'ambulanza. No, no, no. Mi direi da dottor Teodoro. È meglio che vada di persona. Mi dia le chiavi, per favore. Farò in un attimo, in un attimo. Ma che è successo? Sarà morta. Come sta la signora Milone? È peggiorata improvvisamente. Tonio è andato. È scappato via di corsa. Accidenti. Serve al più presto l'ambulanza. Temo di averle dato una dose troppo forte. Il guaio è che se questa vecchia muore, rovinerà tutti i miei piani. Il guaio è che se questa vecchia muore, chi è che si può sapere perché guidi in questo modo? Bisogna correre. La zia Milù sta male. Non fare l'idiota. Sai perfettamente che la zia Milù, per fortuna, sta meglio di tutti noi. Eh, lo dico sempre. La zia Milù è l'unica che sta bene in famiglia. Sì, a questo punto ho qualche dubbio. Perché? Perché non avrei mai immaginato che si prestasse a questa farsa. Ma che cosa dici, Laura? È assurdo. La zia Milù sa meglio di chiunque altro cosa significhi per noi la tenuta di Santa Regina. Allora, da quando sarà pronto il vestito? Domani mattina le sarà consegnato tutto. Bene, ma non è necessario tanta fretta. E ora, se mi permettete, vorrei accompagnarvi all'albergo del paese. Grazie. Così dopo passerò a casa del dottor Teodoro. Voglio sapere come sta quella vecchia matta della zia Milù. Ci manca solo che mi rovini la fessa del matrimonio. No, no, signor Sandro, non si preoccupi. Vedrà che la zia Milù migliorerà. Beh, io spero proprio che guarisca. Che guarisca e non mi rovini la fessa del matrimonio. O almeno che si rimetta fino al giorno del matrimonio. Beh, vado a vedere se il dottor Teodoro ha bisogno di soldi per pagare i migliori medici di Buenos Aires. Ma proprio adesso che sto diventando così importante, quella vecchia mi rovina la fessa. Altro che importante, c'è gente di Buenos Aires che non fa che chiedere di lei e della sua tenuta. Ti hanno chiesto di me? Sì. È venuto un fotografo. Un fotografo. Fotografo da Buenos Aires. È venuto per un reportage. Un reportage? Per una rivista. Un giornale di Buenos Aires. Stanno facendo un servizio e sono tutti i più importanti proprietari della zona. Allora siete pronti? Sì, però manca il vestito del signor Antonio. È andato via a cavallo. Sì, è andato alla tenuta del dottor Teodoro. Spero proprio che non rovini il vestito del matrimonio. Non preoccupatevi perché Tonio sa andare molto bene a cavallo e quel vestito non si rovinerà. Tito, ascoltami bene. Bene. Se per caso qui ci fosse bisogno di me, cerchemi a casa del dottor Teodoro. E non di muovere di qui. Andiamo, ah. Ma valli qua. No, Kimberly, io ho il... Tu sei tanto bella quando vai correndo tra la gente. Fermati, per favore, guardami il mio amore. Muovi il mare, questo istante è tanto grande. Però no, non mi devi trattare così. Non mi devi lasciare qui senza dirmi dove vai. No, 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 no. Non mi devi trattare così. Un cretino ti molli qui. Devo dirle una cosa, Juan. Lei non potrà sposare Tonio quando le darò la notizia che io aspetto un figlio da lui. Adesso finisci, Carosa. Parla piano. Io parlo quanto e come mi pare. Tonio ha deciso di sposarla, ma Laura deve sapere che rimarrà solo... Sbattila fuori da qui. Cacciala via immediatamente. Rosa, vattene, occhiamo il commissario. Sono a fare quello che vogliono per me. Che mi sbattano in carcere, che mi caccino dal paese, dalla casa. Ormai non mi importa più niente. Vuoi sapere cosa mi importa? Che questa stupida città si metta bene in testa una cosa. Puoi pure sposare Tonio, diventare sua moglie. Ma lo sarai solo di nome, perché la vera moglie di Tonio sarò io. Hai capito? Io! Adesso basta, Rosita, basta. Sei pazza, Rosita. Pazza, sì, ma ho vinto la partita. Sono io che ho vinto la scommessa e mi deve dare tutto quello che ha promesso. Diglielo pure, Tonio, che non lo dimentichi. Che è successo? Cosa sono queste gridi? Niente, mamma, non è successo niente. O almeno niente che possa complicare il nostro affare commerciale. Non ti capisco. È meglio, è meglio che torni di là da zia Meru. Mi dispiace, signorina Laura. No, non ti preoccupare, ma tu non parlarne con nessuno, non una sola parola di quello che hai visto e sentito adesso. Mi hai capito? Sì, signorina, però mi dispiace molto te. No, non ha importanza. Se sei intelligente farai come fanno gli altri. Non preoccuparti affatto per me. A proposito, Juan, portagli una coperta. Visto che si è addormentato, lasciamolo dormire dov'è. Va bene, signorina. Delì, dove sei stata? Sei sparita. Ero là. Allora, andiamo a ballare? No, 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 non adesso. Perché? Che c'è? Problemi. Con voi uomini ci sono sempre dei problemi. Sono proprio una stupida. Penso di essere tanto intelligente, invece sto solo facendo la figura dell'idiota. Gli uomini sono tutti uguali. Mi rendo conto che con loro è sempre la stessa storia. E pensare che mi ero quasi commossa e lasciata coinvolgere dalla tenerezza e dalla semplicità di Tonio. Gli uomini sono tutti uguali e lui, lui è il peggiore di tutti. Con il suo sguardo tenero, la sua aria innocente e quelle parole dolci che dice come se fossero spontanea e sincere. Non è certo migliore di cosa ha Roberto. Chi poteva immaginare che un contadino come lui ci sapesse fare più di uno che vive in società? Credo che non ci siano speranze di incontrare uomini diversi perché... perché la verità è che sono fatti tutti con lo stesso stampo. Certo, fare un matrimonio di convenienza non è difficile. Ma poi è quello che voglio veramente. Laura! Cosa fai qui? Ti senti bene? Sì, molto bene. Non potrei stare meglio. Non è troppo tardi? No, Tito, no. Sono appena le dieci. La gente qui va a letto tardi. Infatti, la casa è illuminata. Sì, è vero. Ehi, c'è nessuno? C'è nessuno in casa? È Tonio, Laura. Vai a riceverli. Che cosa? No, mamma. No, non lo faccio. Mi sono prestata a questo matrimonio, ma non intendo fare niente di più. Sta pur certa che non ho la ben che minima intenzione di vedere quell'idiota. Che è successo? No, no, niente. Proprio niente. Allora vedo io. Sì, e per favore, quando chiede di me, se mai dovesse cercarmi, digli che sono già andata a dormire. È pronto. Ecco qua, Tonio, il tuo cavallo. Sì, va bene. Buono. Ma, di alla signora che mi scuso per essermi presentato a quest'ora. Sai, il fatto è che sono tutti molto stanchi con la malattia di te. Lo so, lo so. Potevo anche venire domani mattina, ma lui è un po' geloso. Sai, soffre di solitudine. Va a dormire qua. Bene, allora a domani. Ciao, a domani. Ah, sono morta di sete. Anch'io, mia cara. Basteranno i soldi che abbiamo per una gassosa? Aspetta, aspetta, aspetta. Vediamo. Ciao, a domani. Chi è stato a metterti in testa queste idee assurde, eh? Mio fratello, Francisco Pancio. Ha saputo che sposerò una ragazza di nome Laura e, siccome conosce la sua famiglia, è venuto qui perché è molto preoccupato per me. È mio fratello. Mi ha messo in guardia. Ti ha messo in guardia, eh? Francisco è stato quella carogna, quell'infame disgraziato. Avrei dovuto immaginarmelo che era stato lui. Me lo aspettavo che prima o poi avresti parlato con quel disgraziato, quella brutta carogna, l'individuo che tu chiami tuo fratello. Lo so bene io perché ti ha messo in testa queste idee. Quel tuo caro fratellino, se vuoi sapere la verità, è invidioso di te perché lui non ha combinato niente nella vita e mai niente di buono riuscirà a combinare. E quando ha saputo che ti sei fidanzato con una ragazza tanto carina, tanto educata, di ottima famiglia, e per giunta benestante lui è crepato d'invidia. Ecco cosa ha fatto tuo fratello, quella carogna. È soltanto una vipera velenosa che vuole avvelenare tutta quanta la famiglia. Dov'è quell'infame? È ancora qui in Baese. Voglio parlare col commissario perché lo faccio arrestare. Ma lui è tuo figlio. Ed è mio fratello. Tuo fratello? Mio figlio? Io ho soltanto un figlio. E quello sei tu, Tony, e basta. Per favore non farti incandare dalle idiozie che ti racconta perché rischierai di perdere la migliore occasione della tua vita per diventare un uomo ricco, famoso e rispettabile. E se continui ad avere dei dubbi, se vuoi sapere la verità, va a casa del dottor Teodoro e parla pure con lui. O con la signora Finita, o con quella zia Matta che vive con loro. Coraggio, va. Prendi la macchina e va a casa loro. Cosa aspetti? Parla pure con quella gente. Poi mi verrai a raccontare che cosa ti avranno detto tutti loro. E che finalmente non se ne parli più. Ma mai più. E sentimi bene, fino al giorno del matrimonio io non voglio più sentir parlare di questo argomento perché se disgraziatamente quella ragazza viene a sapere che tu vai in giro a fare questo tipo di discorsi, penserà che sei tu che non la vuoi. E allora addio matrimonio. Oh no, per l'amor di più. No. Non lo dire. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei parlare con la signora Ingrid. Va bene. È un po' presto, forse starà ancora dormendo. Ma per favore le dica che l'aspetto nella hall. D'accordo. Grazie. La signora sta dormendo e veramente non so se devo svegliarla. E però aspetti un momento, lo posso chiedere al segretario della signora e la farò richiamare. Pronto, per favore, mi potrebbe mettere in comunicazione con la suite del segretario della signora Ingrid? Grazie. Pronto? Buongiorno, signor Johnny. Mi scusi tanto se la sveglia a quest'ora, però è venuto il dottor Carlo se vorrebbe parlare con la signora, ma sta ancora dormendo. Non so se devo svegliarla. La svegli pure. Stia tranquilla, so che aspettava ansiosamente il ritorno del dottor Carlos. Ha bisogno urgente di parlare con lui. Mi vesto e tra un attimo sarò lì. Tutto a posto? La signora ha ricevuto il messaggio. Molto bene, la ringrazio. Buongiorno. Buongiorno, Tony. Come stai, Siamilu? Come stai? Sto bene, grazie. Vuoi notizie di Laura? Beh, veramente sono qui perché avrei bisogno di... di parlare con lei. Con me? Sì. Oh, ammesso che Laura non diventi troppo gelosa. Crede davvero che Laura sia gelosa, Siamilu? Eh, certo che lo è, certo. Ecco, è per questo che sono venuto a parlare con lei, perché, vedi, certe volte io non... Sì, 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 ti sembra di essere un po' confuso, è chiaro, tutto si è svolto in un modo così complicato, così all'improvviso. Sì, secondo me a voi due è mancato il tempo, perché tutto è stato così rapido, vi siete conosciuti, fidanzati, ora subito vi sposate, è naturale. Sì, lo so, ma vedi, io non so più che cosa pensare. I nostri genitori si sono incontrati, io non so bene di che cosa abbiano parlato, e tutto questo, vedi, mi lascia disorientato. Sì. Sia sincera con me, Milo, io mi fido molto di lei, le posso fare una domanda? Certo, Antonio. Crede che Laura mi voglia bene davvero? Vedi, ragazzo, è proprio come ti dicevo prima, a voi due è mancato il tempo, non sei d'accordo? Sì. Però, che cos'è il tempo? Il tempo è un'illusione, e per il vero amore non è necessario il tempo, perché, vedi, l'amore vive un'altra dimensione, un'altra spazio. Tu le vuoi bene? Sì, certo, io l'amore molto. Vedi? Tu l'hai già capito, ma Laura non ha ancora capito i suoi sentimenti in tutta la loro pienezza. Te l'ho detto, è solo una questione di tempo. E che cos'è il tempo? Soltanto un'illusione. Così, lei è convinta che Laura mi vuole bene? Non devi assolutamente preoccuparti per Laura. Stai tranquillo, ti vuole bene. Ma l'amore non lo distruggono quelli che si amano. La colpa è degli altri, quelli che stanno al di fuori. Loro tramano, complottano. E ora ti chiedo scusa, Antonio, ma devo rientrare. Ah, per favore, dia a Eulalia che le mando tanti saluti. E uno di questi giorni verrà a prendere quel buon tè di ciliegie che sa preparare solo lei. E ora, Rodolfo, col tuo permesso, Buongiorno. Come va, dottore? Bene, grazie. E la signora? Viene subito. Spero di non averla disturbata troppo presto. No, era molto ansiosa di vederla. Buongiorno, signore. Buongiorno, signora. Buongiorno. Vuole che ordini la colazione, signora? Più tardi. Devo parlare con il dottor Carlos. Devo andare via, signore. Non è necessario. Allora? Bene, il mio viaggio è stato molto proficuo. E credo di avere per lei delle informazioni che la interesseranno molto. Benissimo. Che cosa ha scoperto? Prima di tutto che Frank è originario del paese di Santa e del Mira. E in secondo luogo, quel giovane che ha visto il suo autista e che io ho seguito, cosa che quasi mi è costata la vita, è il fratello di Frank. Si chiama Antonio e in città lo conoscono come Tonio. Così ha veramente un fratello. E ha anche un padre che è il proprietario di una grandissima tenuta. Bene, queste notizie mi riguorrono. Significa che non mi ha raccontato menzogne. Mi aveva detto che suo padre era molto ricco, ma... Mi ha mentito solo quando mi ha detto che era morto. E la madre? La madre è morta già da diversi anni. E ora, se permette, signora, le avrei preparato un resoconto ben dettagliato. Per non correre il rischio di dimenticare anche il più piccolo particolare, ho scritto tutto. Credo di aver raccolto tutti i dati che le interessavano di quella famiglia. Molto bene. E quali sono le cose che secondo lei mi avrebbero interessato molto? Vede, si tratta di una persona non molto raccomandabile. Si dice che abbia derubato il padre e che abbia frequentato sempre donne più grandi di lui. E che altro? Vede, sembra che abbia avuto, o che abbia ancora, una relazione con una signora molto ricca che gli ha regalato un appartamento. Spero di non averla turbata, signora. No, affatto. È chiaro che quando... quando vuole raggiungere uno scopo non perde tempo. Non so se lo ha notato, ma non usa più il Rolex d'oro che lei gli ha regalato. No, non l'ha notato, ma sicuramente lo avrà venduto per comprarsi la macchina. E che altro sa di questa generosa signora? Non sono ancora riuscito ad individuarla, ma credo che nel pomeriggio, grazie alle informazioni che ho, potrò ottenere ulteriori dettagli. Benissimo. Sinceramente, signora, mi aspettavo che ne rimanesse molto più colpita. Dottore, ormai simili informazioni non mi colpiscono più. La sola cosa che mi preoccupa è di non poter raggiungere i miei obiettivi. Ha fatto un buon lavoro. Ora vada pure a riposare. Ritornerò nel pomeriggio. Non c'è fretta, può venire oggi o domani, sempre che abbia informazioni precise. D'accordo, buongiorno signora. Arrivederci. Arrivederci. Maria ordina pure la colazione. Subito signora. Faccio colazione con lei? No. Voglio che vada al garage e che dica l'autista di salute. Ho deciso di cambiare l'auto. Va bene, vado subito. Un'altra cosa. Dove sono le foto di quei documenti che ha portato il dottor Carlos? Le ho io. Dopo che avrà parlato con l'autista, mi porti il materiale. Voglio comprarmi una casa. Ho intenzione di rimanere in Argentina più del previsto. È inutile. La nostra abilità non servirà assolutamente a niente. Che altro devo fare? Ho parlato con la gente di Santa e del Mir. A me non interessano quelle di Santa e del Mir. Come giustificheremo questo matrimonio con i nostri amici? Come presenteremo quello squallido individuo? Oh, Teodoro. Oh, Teodoro, se non troviamo una soluzione a questo matrimonio... Certe cose sono inevitabili. Noi potremmo fare una cerimonia molto intima, ma... Ma più di questo no. Sì, ma basteranno due o tre dei nostri amici per scatenare pettegolezzi a non finire. Chiedo scusa, signora Finita. Per favore, Zeffa. Sto parlando di una cosa importante con mio marito. Mi scusi tanto, signora, ma è una cosa urgente. Sa, ho appena ricevuto un messaggio e dovrei parlare con lei e con il dottor Teodoro. Di che si tratta? Ecco, è successo questo. Vede, signora Finita, fra una decina di giorni doveva sposarsi una mia nipote in una fattoria qui vicino, ma... Ma mio fratello si è ammalato e forse sta per morire. E siccome lui ci tiene tanto a questo matrimonio, i miei parenti hanno deciso di celebrarlo oggi stesso. E io sono venuta a chiedere il permesso per andare alla fattoria per... assistere al matrimonio. Ma suo fratello sta per morire e per questo anticipano il matrimonio. È così, dottore. Posso andare? Ma certo, vada pure. Ecco, io volevo chiedere un'altra cosa. Posso farmi accompagnare dal contadino col calesse? Sì, 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 certo. Si faccia accompagnare, anzi, vada a chiamarlo. Grazie. Certo, certo. Vada pure al matrimonio di sua nipote. Grazie. Io la ringrazio, dottore. E anche lei, signora Finita. Povero fratello, ci teneva tanto a questo matrimonio. Non resta che sperare che ci sia ancora tempo. Sì, sì, faremo così. Cosa? Ecco la soluzione. Mandiamo le partecipazioni. Diremo a tutti i nostri amici che ci sarà una grande festa. Io non ti capisco. Cara, mandiamo subito tutti gli inviti. Perché tra un mese si farà il matrimonio. Ma io continuo a non capire. Senti. Tra una diecina di giorni, la zia Milou si ammala gravemente. E siccome il suo ultimo desiderio è di assistere al matrimonio di Laura, anticipiamo la cerimonia e non facciamo alcun festeggiamento. Solo per esaudire l'ultimo desiderio della zia Milou. Puoi portare via tutto. Maria? Dica signora. Faccia entrare l'autista. Sì signora. Si accomodi. Permesso. Prego, la signora l'attente. Buongiorno signora. Buongiorno. Maria ci lasci solo. Va bene signora. C'è un motivo per cui io l'ho assunta. Perché me l'avevano raccomandata caldamente. Ma secondo le mie informazioni lei è un pessimo autista. E la mia auto non è in buone mani. Ma in compenso ho saputo che lei è un uomo disposto a fare tutto. E che dietro una buona retribuzione io potrei contare sui suoi servigi per qualsiasi necessità. È vero? Sì signora. Anche se si tratta di eliminare una persona allora ne sarebbe capace. Lei conosce molto bene chi mi ha raccomandato signora e quindi deve anche sapere che non è la prima volta che accetto simili incarichi. Lo sapevo. Volevo soltanto avere una conferma da parte sua. Può dirmi di chi si tratta? Nessuno. Era solo un'informazione. Una domanda come un'altra. Ho voluto solamente accertarmi su chi posso contare. Può stare tranquilla signora perché io faccio sempre un buon lavoro. Può andare. Conti su di me signora. Non prenda sul serio ciò che le ho chiesto. Per adesso. È solamente un'ipotesi. Come lei desidera signora. Buongiorno. Grazie. Sa signor Sandro. Ieri sera abbiamo cenato con il sindaco, il giudice, col notaio. Grazie. E ho detto loro che abbiamo intenzione di dare una festa bellissima per le nozze. Benissimo. E da Buenos Aires. Verranno molti vostri amici da Buenos Aires. Ma è chiaro che sarà invitata tutta l'alta società. Tutta l'alta società. Sarà una festa bellissima e chic. Tanto da non poterlo immaginare. Oggi stessi io vado a Buenos Aires. Così da domani potrò cominciare ad occuparmi del pranzo, dei fiori, tutto quello che serviva. Le partecipazioni. Certo, non dimentichi che Kiki è già a Buenos Aires proprio per questo. Ma che bello. Sarà un matrimonio favolosissimo. Proprio così. Beh sì, sarà stupendo. E tutto questo mi rende molto felice. Ma mi dica dottore, e i vestiti? Oh, non si preoccupi. Kiki farà venire il sarto da Buenos Aires. Penserà a lui e agli abiti per lei e per Tonio. Ah, ecco. A proposito, e dove sarà Tonio? Guarito! Dov'è Tonio? È giù nella stalla. Sembra che abbia dei problemi con l'imballatrice. Ah sì? Chiamalo, digli che venga subito a salutare i futuri suoceri. E digli che c'è il papà di laurea, insomma, ecco. E dottore, col vostro permesso, vi vorrei dare la mia quota per il ricevimento. No, no, la prego, non sono venuto per questo. No, 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 mia moglie ed io siamo venuti solo per parlare degli ultimi dettagli. Sì, ma va bene, dottore. Ma il denaro è l'inizio e la fine di ogni cosa. Con permesso. Che bel mobile. Eh, è davvero bello. È bello, sì. Però deve stare sempre ben chiuso. Sarebbe una grossa imprudenza se facessi vedere a tutti quello che c'è qui dentro. Soprattutto, non devono vederlo i figli. Perché altrimenti si fanno chissà quali idee e vogliene spendere più di quelle che in realtà si può e si vive. Ecco a voi, dottor Teodoro. Credo proprio che questo basterà. Accettatele, per favore, va bene? Va bene. Sì, sì, questa è sufficiente, mi sembra. Sì, 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 va bene, va benissimo. Sono i soldi per la festa, no? Certo. E dintemelo se... Ma, signor Sandro, non le sembra pericoloso tenere tutti quei titoli e tutto quel contante in casa? Se permettete, dottor Teodoro, ve lo spiego subito il perché. Chiedo scusa, signora. Prima devo chiudere la cassaforte. Io credo, dottor Teodoro, che questo denaro che io tengo in casa corre esattamente lo stesso pericolo, lo stesso rischio che corre se tenuto in banca. E tra l'altro, io ho una teoria. Ciò che è mio, voglio averlo sotto gli occhi. Lei, signora, stava ammirando quel bel pezzo di antiquariato. Ma voglio raccontarle com'è che ho avuto quel piccolo mobile. Una volta un amico mio, un vicino, che teneva tutto quello che possedeva ben custodito in banca, è finito sull'astrico. Non ha potuto pagarmi nemmeno un soldo. Si è ucciso impiccandosi. Povero uomo. Hanno dovuto liquidarmi con le sue tenute, compresi i mobili e tutto quello che vedete qui dentro. E così ho ingrandito la tenuta di Santa Esteban. Comunque, la sua grandissima tenuta. è niente rispetto a quello che ha lì dentro. È certo, è certo. Non c'è dubbio, però, quando noi uniremo le due famiglie e la vostra attività con la mia, allora sì che avremo una grande proprietà. E i figli di... della vostra Laura e di Tonio, sempre ammesso che vada tutto bene e che restino insieme, non avranno problemi, perché quando la vostra tenuta e la mia saranno unite, compreso tutto il resto, saranno loro ad avere la proprietà più grande di tutta la zona. Deve essere Tonio. E sta arrivando. Per favore, dottore, mettete via quei soldi. E non voglio che mio figlio Tonio sappia che vi ho dato la mia vuota per la festa. Certo, capisco. Grazie. Mettili qui. Tonio, che sei tu? Sì, papà, sono io. Adesso arriva. Buongiorno, signori. Anzi, buonasera. Come sta, signor Teodoro? E lei, signora? Ciao, Tonio. Stavo lavorando, dovevo provare una nuova macchina. Scusate, non sapevo che sareste venuti. Eh beh, sì, sei davvero impresentabile vestito così. Però un ragazzo che sta per sposare una ragazza così fine, così elegante come la figlia della signora Finita, come fa a presentarsi ai futuri suoceri in abiti da lavoro? Ma che dovevo fare? Stavo lavorando nel granaio, ho riparato l'imballatrice, ho dovuto smontare tutto quanto il motore. Era impossibile non sporcarsi. E poi, lo sapete com'è, no? Era indispensabile farlo. C'è tanto di quel frumento da imballare. Credetemi, è incredibile. Bene, mi fa piacere sapere che... che Tonio è un bravo lavoratore. Ah, sai, Tonio, oggi io vado a Buenos Aires. Voglio organizzare la festa che si farà per il vostro matrimonio. E devo dire qualcosa, Laura? Ah, certo. Sì, certo, le dica che... le dica che l'amo molto. Sì, le dica questo. L'ama molto. Sì, sì, io l'amo molto. Sì, sì, sì. E sai, Tonio, la signora e il dottor Teodoro stanno preparando una grande festa. daranno un ricepimento che sarà la fine del mondo. Per chi? Come, perché? Per il tuo matrimonio con Laura, no? Ma no, papà, non ce n'è bisogno. Faremo una festa semplice, una festa per pochi intimi, una festa fra amici. Mi sentirei a disagio. Ma, vabbè, è chiaro, se lo vuole Laura, allora sì. Come se lo vuole Laura? Ma che stai dicendo? È una festa di tutta la famiglia per stare in allegria. E poi il dottor Teodoro e la signora finita devono presentarci a tutti i loro amici dell'alta società, a tutta la crema di Buenos Aires. Devono far sapere a tutti chi è lo sposo. Ma no, ma no, papà, a me non sembra il caso. Mi sentirei ridicolo. Noi non ci siamo abituati. Non sappiamo comportarci, signor Teodoro. Mi creda, noi non siamo come voi altri. Ma che stai dicendo? Ma chi ti ha messo in testa queste stupidaggini? Io non lo capisco a questo. Ma che idee di frutta? Non sono stupidaggini. Papà, è vero. Noi non sappiamo come comportarci nell'alta società. Faremo sfigurare il signor Teodoro, la signora finita e Laura. No, no, per favore. Tonio, se lascerai fare a noi andrà tutto bene. Beh, va bene. Come vuole. E Laura? E ancora Buenos Aires deve farsi fare il vestito da sposa. Credo che tornerà fra tre o quattro giorni. Tre o quattro giorni, quanto tempo. Ma va lì qua. No, Kimberly, io ho il diritto di sapere. Era la mia creatura quella che portavi dentro di te e poi non so nemmeno se è maschio o femmina. Il dramma di una giovane ragazza. Muovi il mare, questo istante è tanto grande. però no, non mi devi trattare così, non mi devi lasciare qui senza dirmi dove vai. No, 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 non mi devi trattare così, Un cretino che molli qui Va bene, quando torna ci sposiamo Ah, signor Teodoro, sa una cosa? Ecco, Tito è andato in paese E ha detto che i documenti sono quasi pronti Che ne vengono? Io non ci credo Mi sembra... Mi sembra che sia un sogno Mi pizzico per vedere se è solo un sogno E' troppo bello tutto questo E' davvero troppo bello per essere vero Dardo, cosa c'è? Ma quando smetto di lavorare? Senti, devo finire di fare questa riparazione Sono giorni che ci lavoro, lo sai? E dopo devo anche riparare la pompa della benzina Se no, qui va tutto in mano Ma hai appuntamento con la tua bella pionda? E allora? E allora ti ci vorranno almeno due ore Per toglierti di dosso questa puzza di benzina Non è un problema Sai, Bruno ha comprato un uovo profumo Me ne metto un po' e è fatto Dardo! Cosa c'è? Perché non sei venuto? Dove? Te ne sei dimenticato? Dimmi che ti devo dei soldi No, sto tranquillo Mi avevi chiesto di farti il manicure Perché stasera hai un appuntamento Ho ragione, non ci pensavo Ai, 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 come farò a togliere tutto questo sport? Ehi, Dardo, io ho un'idea Certo di fare del tuo mento Sai cosa devi fare? Devi mettere le tue belle manine sulla smerigliatrice Ce le passi bene bene Così ti diventeranno benedizie Senti, tu devi farmi un favore Sparisci dalla mia vista Vattene! Dardo, prima dovrei farti un bando, va bene? Certo, va bene Allora io vado, t'aspetto Non tardare, mi raccomando Sì, sì, vengo appena ho finito qui Ciao Che cos'ho? Che cos'ho? Che cos'ho? C'è che dentro di me sono convinto di fare una cretinata Ecco Ma perché pensi questo, Dardo? Perché io mi incontro con lei ora, no? La vedo, perfetto E domani? E dopo domani? Prima puoi scoprire Sono un meccanico che lavoro in questa officina E che non ho un soldo in tasca Non dobbiamo mentire in questo modo, Nando Lo capisci, non dobbiamo A me sembra che per come si stanno mettendo le cose Tu debba fare molta attenzione Lo sai qual è la cosa che ti ho sentito? Cosa? Quello che mi ha infilato in questo guaio è stato fratto So che la vado per aiutarmi, però Come si fa ad inventarsi che sono il padrone di una concessionaria? Ma tu non ti devi preoccupare di questo Questa è una donna che sta sulle sue Tu fai altrettanto Cerca solo di divertirsi il più possibile È facile, no? Divertirsi il più possibile Per te sarà facile, per me Questo è soltanto problema tuo Che vuoi che sia? Se non hai voglia di andarci, non c'è andare Nessuno ti obbliga, sai? Ma allora non capisci, Nando Tu non mi capisci Quello che mi tormenta è che ho molta voglia di vedere Ne sei proprio sicuro? Certo che sono sicuro Te l'ho detto Mamma viene qui Ma non capisco Sarà senz'altro uno scherzo di papà e di mamma e di tutti quelli che... Cos'altro può avergli offerto quell'uomo a papà per convincerlo a fare questo? Non ti preoccupare, eh? Sai perfettamente che nostro padre non è uno sciocco Sono sicuro che questa storia della festa è solo una montatura Una montatura, eh? Se la gente viene invitata, la gente viene al matrimonio E io che mi cervello a raccontare storie per spiegare che... Che sarà solo una cerimonia intima Che la zia Milù è molto malata e via dicendo E ora dicono che ci sarà la festa, ma sono tutti impazziti Ma ora vuoi calmarti, per favore? Sono sicuro che è come al solito Papà starà tramando qualcosa Io lo conosco, il dottor Teodoro Sì, sì, certo Papà pensa di invitare tutta l'altra società Pensa di dare una gran festa Te lo dico subito Io a questa buffonata non ci sto Perché prima di tutto non mi presento alla festa E poi, poi se insistono tanto Quel tale si sposerà da solo, hai capito? Le piante hanno sete, sai? E con questo abbiamo finito Per favore non gliela lasci toccare Sì, signora Ah, è bella questa casa, vero? E ora tesoro Ti devo dire Che la mamma riceverà una visita Sì, sì Fra poco viene Un amico della mamma e anche di dellì Per chiacchierare Ma siccome a te non interessano i discorsi degli adulti Tu te ne andrai a dormire Vero? Ti piace stare nella tua stanza? Per favore, può aprire lei? Sì, signora Non metterai mica il bronzo, eh? Ciao mamma Ciao Come stai? Ho dimenticato le chiavi E come stai il piccoletto di casa? Ah, finalmente sei arrivata Ero preoccupata, sai Devo prepararmi Ho evitato Dardo a bere una cosa qui da me Ah, mi dispiace mamma Sarei tornata prima Ma dopo la chiusura dei negozi Sono rimasta bloccata in mezzo al traffico Allora Mamma, fa riparare l'auto Ho ancora quella ammaccatura Sì, ma non è niente di grave Basta portarla dal carrozziere E lui la sistema Sì, ma così rimarremo due o tre giorni senza auto Sai che cosa faccio? Eh, tra il tuo papà E gli chiedo se mi presta una delle sue macchine No No, ti prego non chiederglielo Non voglio nessun favore da tuo padre Andiamo mamma Non è a te che papà farà il favore Ma a me E comunque non si tratta affatto di un favore Lui è obbligato a farlo Perché alla sua nuova fiamma Le ha comprato una bella decapotabile E perché la poverina non prenda freddo Le ha comprato anche una coupé nuova di zecca Può anche prendere una delle sue auto E mandarla a noi Ora basta di lì Che hai comprato? Ah, giusto Ho comprato una cosina per la dolcezza di casa Tieni No, no, no No, non lo apriamo qui Altrimenti mettiamo in disordine Facciamo una cosa Andiamo in camera tua e lo apriamo lì Così qui rimane tutto in ordine Ma lascialo fare Non ha importanza Non ci vuole niente a far sparire questa roba Credimi Allora Guardiamo che cosa c'è Vediamo Cosa vedo, cosa vedo Ma non mi dire Ah, una macchina a pile Guarda come fa Ti piace? Allora, come fa la macchina Non vuoi dire grazie a tua sorella? Devi dirle Grazie dell'Ipera avermi regalato questa bella auto Allora Allora Non vuoi dire grazie a dell'Ipera? Mamma Un giorno parlerà Un giorno qualcosa lo spingerà a parlare Il medico l'ha garantito, no? Marie Credo che Credo che sia ora di portarlo a fare il bagno Sì signora Andiamo Gli è piaciuta l'auto? Sì Per un momento ho pensato che parlasse Ogni volta abbiamo la stessa impressione Bene, io mi faccio una doccia Posso usare il tuo bagno? Che domanda, certo dell'Ipera Ehm Allora viene qui Dardo? Sì Sì L'ho invitato a bere qualcosa E dopo forse usciremo Ah È arrivato oggi? Sì Sì Credo che sia arrivato oggi Cosa c'è? Mamma, io non voglio intromettermi nella tua vita Però Credo che tu stia facendo uno sbaglio Perché? Mamma Non avresti dovuto dire a Dardo di venire qui Potrebbe entrare il bambino e A santo cielo Sarà meglio che tu dica alla cameriera Di non farlo uscire per nessun motivo dalla Dalla sua cameretta Dammi retta Va bene? Hai visto che è successo con papà, no? Io vado a fare la doccia Mamma Mamma Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspetta, esco anch'io con te. Un attimo che prendo i libri. Ciao mamma. Ciao tesoro. Non fare tardi, eh? No, non ti preoccupare. E come si fa a non preoccuparsi? Dardo! Dardo! Cosa c'è? Divertiti e buona fortuna. Grazie sorellina. Arrivederci signora Maglia. Ciao ragazze, ciao, che Dio vi benedica. Mamma, che ti succede? A me? Ma niente, perché? Che cosa ho detto? No, niente, ma ho visto che hai l'aria preoccupata e mi chiedevo perché. Ma che dici? Non sono preoccupata. Sei sicuro che è elegante? Ma sì, te l'ho detto, si è tirato a lucido. Lo sapevo. È davvero bello il mio ragazzo. Chissà come finirà questa storia. Oh, santo c'è. Con tutte le brave ragazze che ci sono qui nel quartiere, lui va a impegnarsi con quella donna. Mamma, ora che Carolina è uscita vorrei parlare con te. Posso? Eh, non poteva sentire Carolina. Abbiamo forse qualche segreto in questa casa. Non si tratta di un segreto, mamma. È solo che ora Carolina si sta preparando per il suo congresso. Io non voglio rovinarle il viaggio. Congresso? Quella è una cosa da pazzi, altro che congresso. Ma tu, perché sei preoccupato? Cosa c'è? Niente, devo solo comprare il materiale per la facoltà, ecco tutto. Quale materiale? Che ti serve? Il professore ha chiesto un sacco di cose, sai? Materiale acrilico, i denti, una lista interminabile. Beh, ma se sono cose che ti servono, le compriamo subito. Certo, mi servono, però costano un sacco di soldi, sai? Soltanto mio compagno ha comperato tutto. Sì? Pensa che ha speso una vera fortuna. Bene, e per... Per quando ne avresti bisogno? Veramente è già da un po' che mi servono. Finora mi sono arrangiato chiedendo tutto in prestito a mio caro amico, però sai, non posso più farlo. Benedetto figliolo, perché hai aspettato all'ultimo momento a dirmi che ti servivano queste cose? Perché non me lo hai detto prima? Ma come? Come perché non te l'ho detto prima? Ma come facevo? Che domande? Sapevo che... Sapevo cosa? Beh, che ci volevano dei soldi. Beh, con questo. Quello che serve si compra. Mamma. Cosa? Stavo pensando che... Farai meglio a trovarmi un lavoretto. Non ci provare nemmeno a tirar fuori certe idee, Bruno. Lo sai benissimo come la penso. Non ti puoi trovare un impiego. Prima c'è lo studio, devi frequentare la facoltà e hai lezioni la mattina e il pomeriggio. Come fai a lavorare? Ma in qualche modo devo fare. Come farai a studiare? Devo trovare una soluzione prima possibile. La situazione sta diventando difficile. Difficile? Non esagerare. Prima lo studio, è chiaro, no? Che lavoretto è lavoretto. Tu devi studiare. Hai bisogno di quel materiale? Bene, lo avrai. Ma scusa mamma, se Carolina lavora, perché non posso lavorare io? Carolina? Carolina lavora con me solo quando ha tempo. Perché prima c'è lo studio. Quando ha finito di studiare le avanza tempo. Allora lavora con me, però prima studia. Tu hai bisogno del materiale? Allora lo avrai, come lei farà questo viaggio per andare alla conferenza perché dice che le serve. Per la facoltà, per lo studio e via dicendo. Hai bisogno del materiale? Allora lo avrai. E per comprarlo ci arrangeremo. Oh, Vergine Santa, che carino sei. Stai proprio bene vestito così. Ma dai, è la roba di sempre. Non lo devi. Il giubbotto è di Bruno. Ehi, ho usato un po' del tuo profumo. Sì, l'ho sentito. C'hai quasi fatto il bagno dentro, eh. Ma a te che interessa. I uomini troppo profumati danno una cattiva impressione. Ma che cosa dici? Digni una cosa, pulso ancora di nafta? Senti. Di nafta, dai. Fammi sicuro, mi nafta. Che buon profumino. Bene, allora io vado a bere qualcosa con gli amici. Cosa? Vai al bar. Ma non avevi un appuntamento tu? Sì. E allora perché vai al bar? No, guarda, al bar non ci vai perché se ti metti a parlare di calcio con i tuoi amici finisce che fai tardi all'appuntamento e non ti presenti. Il fatto, mamma, è che... Che? Non so se devo andare oppure no. Come? Non sai se andarci o no? Non hai preso un impegno. E allora come fai a non andarci? Un impegno si mantiene, se no gli altri che pensano? Che sei un maleducato. Io ti ho educato bene, figliolo. E cosa ti ho sempre detto? Gli impegni che si prendono si devono mantenere e tu stasera andrai a quell'appuntamento. Ah, ti segno io. Sentito. Senti Bruno, per favore mi accompagneresti a casa sua. Cosa? Ma tu starai scherzando, Dardo? Dai Bruno! Senti Dardo, in queste cose devi cavartela da solo, non fare il ragazzino. No, ascoltami. Il fatto è che... Sai, lei mi ha invitato a salire nel suo appartamento, a bere qualcosa e... Che nessuno... Non avrai mica paura, fratellino, eh? Ma non ti devi preoccupare, perché io credo che Marzia penserà a dirti tutto quello che dovrai fare. Ti spiegherà tutto... Ma cosa vai pensando, eh? Vai, vai. E divertiti. Sì, sì, va bene, ho capito. Però mi faccia un favore, dica alla signorina Laura che lo sto cercando. Grazie. Allora? A me sembra molto strano. Ogni volta che chiamo Laura, o mi risponde chi, che o mi risponde la cameriera e mi dice che non c'è, o che è sotto la doccia. Ma che vai? Sarai impegnata con i preparativi del matrimonio. Sarà come dici, ma io non riesco proprio a capirla. Secondo me si comportano in un modo così misterioso? No, ma è chiaro. O Laura sarà occupata a organizzare il suo matrimonio, dovrà pensare al guardaroba, al vestito da sposa. Un padrimonio non è uno scherzo. Ci sono tante di quelle cose da fare. Sì, va bene, ma se Laura già aveva in mente di sposarsi quando è partita per il viaggio in Francia, probabilmente avrà contato l'arco per il guardaroba, no? È quello che ho pensato anch'io, ma giudicare dalle valigie che aveva quando è tornata, non credo che avessi con sé il guardaroba. Sì, ma non ha detto di aver lasciato una parte del guardaroba in Francia. E si vede che se lo farà spedire. Ma sentite, i ragazzi sono arrivati, io gli vado incontro. Fregatela. Che cos'ha? Sei preoccupata per l'anno? Sì, sono preoccupata. Bene, potremmo anche andarla a trovare a casa sua, però visto che lei si fa negare al telefono, mi sembra proprio il caso. Che preoccupare. Prima o poi chi che verrà in discoteca e potrà raccontarci tutta la cosa che... Hai ragione. Guarda, guarda che macchina pulita, guarda com'è lucida, eh? Sembra uscita ora dalla fabbrica. Mai un cliente della nostra officina ha avuto una macchina così perfetta. Ehi, che cos'hai? Che cos'ho? Sì. È che mi sento un disonesto. Un disonesto? Ma che diavolo stai dicendo? Ah, mentre scendevo dalla mia camera ho sentito Bruno che parlava con la mamma. Deve comprare un sacco di materiali per la facoltà. E non ha i soldi. Eh sì, le disgrazie capitano sempre tutte insieme. Carolina va al congresso, Bruno deve comprare il materiale e così via. E io esco con Marzia. E questo che c'entra? Come che c'entra, Nando? Ogni volta che esco con lei se ne vanno almeno 6 o 7 mila pesos. Ma tu te li guadagni i soldi. Avrai diritto di divertirti o no? Ma certo che ho il diritto di divertirmi. Ma non per questo i miei devono sacrificarsi per colpa mia. Se avessi sentito che cosa ha detto quello scemo di Bruno alla mamma, pensa che le ha detto che vuole trovarsi un lavoro da fare nel tempo libero. E perché non viene a lavorare con noi? No, amico. Nella mia famiglia, con le mani sporche di grasso, basto io. Nando, dovresti farmi un favore? Certo. Io adesso vado all'appuntamento con Marzia. Volevo fare un salto al bar, ma ho cambiato idea. Vado subito là. Lo sai, no, che mi ha invitato a casa sua. fra una mezz'ora circa tu mi telefoni e dici che mi vogliono allo studio per una cosa importante. Così posso venire via senza fare brutta figura e non usciamo a spendere soldi. Ma non è necessario. Senti, noi facciamo prezzi troppo bassi, ti sembra? Possiamo aumentare un po' ed è fatto. Che ne sai, cliente, se noi aumentiamo i prezzi? Dai, dai, Nando. Dopo tanti anni di lavoro vogliamo diventare due malandrini? Lo sai che io a volte sono tentato di fregare il cliente. Anche se poi me ne vergogno. No, amico. Allora, d'accordo? Tra una mezz'ora aspetto la tua chiamata. Sì, però, ascolta un momento. E il suo numero? E dai, Nando, non fare lo scemo. Quei pettegoli del bar lo conoscono a memoria il numero. Se no, fai telefonare al padrone. Però che non dica stupidaggini. Qualcun altro potrebbe ascoltare. Digli di parlare seriamente. D'accordo, se non tardi, t'aspetta. Potrei esserti d'aiuto. Ti servirà una spalla mica su cui versare le tue lacrime. Ciao. Salve. Buonasera. Dove sei stato tutto il giorno? Ecco, sono tornato a casa all'alba. Ero molto stanco. Mi sono buttato sul letto e ho dormito fino alle quattro. Ti ho chiamata, ma non c'eri? Sì, ero in cerca di una casa da comprare. Ottimo. Comprare una casa non significa che mi fermi a vivere qui. Bevi qualcosa? No, preferisco andare subito a cambiarmi. Vorrei che dopo andassimo a cena insieme. Come vuoi. Allora ti lascio in compagnia di Johnny. Non ti sentirai solo. Bene. Con molto piacere. Quando sarò pronta, ti chiamerò. Prego. Com'è andato il viaggio? Ah, è andato bene. Sono andato a trovare un mio amico che ha deciso di sposarsi. Johnny, la signora pensa veramente di comprarsi una casa qui? L'ha già scelta. Comprerà una casa completamente ammobiliata. Ah. Sicuramente la signora chiederà la sua opinione. E quindi questa è la casa. Guardi pure. Accidenti, è una bella villa. Meno male che le piace. E io che c'entro con questo? Se a lei non piacesse, la signora Ingrid finirebbe per non comprarla. Giulio, torna in camera tua. Ehi, non fare così. Ora ci penso io ad accomodarla, va bene? Che è successo? Credo che si sia rotta la macchina. Ma perché è venuto qui? Non vuole stare in camera sua. Tesoro. Vieni, fa vedere. Tieni. Prendi la macchina e torna in camera tua. Ti prometto che la giusteremo e se non ci riusciamo non ti preoccupare. Domani te ne compro un'altra. Per favore, Marie. Sai che a momenti avremo delle visite. Comunque la signora sta finendo di vestirsi. Il bambino però deve rimanere assolutamente in camera sua, capito? Sì, ho capito. Ma mi è scappato sotto gli occhi. Allora chiudi bene la porta a chiave, no? E poi a quest'ora dovrebbe dormire. Non so che cos'ha, è tanto eccitato per la sua macchina. Non l'ho mai visto tanto preso da un giocattolo come questa volta. Bene, ora riportalo in camera sua. È ancora presto. Chi sarà? Vado a vedere. Salve, come stai? Entra, prego. Grazie. C'è tua madre? Sì, sta finendo di vestirsi. Accomodati, prego. Le ho portato questi fiori. Credo che la mamma piacerà riceverli dalle tue mani. Sono in anticipo? No, veramente credo che la mamma sia in ritardo. Vado a dirle di sbrigarsi. Ma prego, accomodati pure. No, 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 non importa. Ti offro da bene. No, no, lascia stare. Guarda, serviti da solo. Qui c'è whisky, ghiaccio, scegli quello che vuoi. Bene. Mettiti pure comodo, io vado ad avvisare la mamma che sei arrivato. Grazie, Delì, grazie. Di niente. Grazie, Delì, grazie. Ehi, ciao. E tu che sei? Ciao, caro. Cos'è c'è? Junior, è ora che tu vada a letto. Scusa, Dardo, la bambinaia non ha fatto attenzione e allora... Ha aperto la porta della stanza e... No, 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 aspetta un attimo, aspetta, ma vieni qui. Vieni, vieni a sederti vicino a me. Tu sei Junior, eh? Allora dimmi, cos'è stato? Si è rotta l'automobilina? Oh, senti, io di auto me ne intendo. Voglio provare a vedere se riesco a farla funzionare. Vuoi? No. Tendiamo. Su, dammela. No, grazie. No, no, non ti preoccupare. Domani esco e ne compro una nuova. Ma perché comprare un'altra auto? Questa va benissimo, basta solo... solo aggiustarla. Non avete per caso... un cacciavite? No, no, ti prego. Ah, ce ne sono nella macchina da cucire. Perfetto. Sono anche piccoli. Prendi uno, per favore. E adesso, Junior, cerchiamo di capire dov'è il guasto. Per prima cosa controlliamo questo apparecchietto qua, che serve a comandare a distanza. Vediamo se la pila sta a posto, se c'è il contatto. E dopo... Ehi, ma cos'è successo qui? Hai avuto un incidente, eh? Eh, è lenta questa ruota. Guarda, è lentissima, è tutta fuori centro. Eh, Junior, bisogna fare molta attenzione quando si guida. Bisogna saper usare il cambio, saper frenare in tempo, altrimenti possano succedere degli incidenti. Ecco. Molto bene. Questo sì che è un aiutante. Ora guarda, guarda qui. Per prima cosa vediamo se questa parte è a posto. Questo apparecchio controlla le funzioni del motore. Qui dentro ci sono le pile, e le pile stanno a posto, fanno il loro bel contatto. Senti, perché hai permesso a Junior di uscire dalla sua stanza? Non mi sembra giusto costringerlo a fargli fare questo lavoro. Oh, ma per me non è un lavoro, me ne intendo di automobili. Allora, Junior, credo che tu abbia capito perfettamente come sia giusto a un'auto nel caso tu abbia subito un incidente. Non è vero? Bene. Beh, come stai, vecchio mio? Hai camminciato presto, bene. Sei venuto in moto? No, quando vado in moto devo starci attento. In macchina non c'è nessun problema. Sì, certo, anche questo è vero. Ah, senti, dimmi. E' quella della fattoria, che stai diventando un contadino, che ti vuoi dedicare alla campagna? Ah, no, non è una mia volontà. Ho dovuto occuparmi della casa per una questione di famiglia, soprattutto ora, con la decisione che ha preso Laura di sposarsi, e devo aiutare la mia famiglia. In che modo? Beh, almeno dando appoggio morale alla mia famiglia. Sebbene mio padre il mio appoggio morale lo consideri un appoggio immorale. Ah, sei facile. Sì, ma sono un pazzo molto efficiente. Voi ve ne state qui, come va, va. Sembra che durante la mia assenza ci siano stati dei problemini, vero? Che stai dicendo? Qui è tutto normale. Saprei già le ultime novità, no? Frank si è messo insieme a quella signora ricca. Voi volete approfittare della ricca? No, questo no. Qualche volta si fa vedere. Facciamo quattro piacchiere. Tutto qui. Ah, sì? Ah, Marcia continua ad uscire con quell'amico di Frank. Credo che lo conosci, ma sì che lo conosci. Aspetta, se non sbaglio mi sembra che abbia, sì, una concessionaria. Ah, no, no, no. Questa storia non mi interessa. Non voglio saperne anche se ne sentiremo ancora a parola. Da chi c'è, chi? Che come stai? E tu come stai? Bene. Bene. Raccontami, che cosa sta facendo tua sorella? E' preoccupatissima, perché chiama, chiama, chiama e Laura o non c'è o è in bagno. Che le succede? E' innapparata o c'è qualcosa che non va con me? No, niente di tutto questo, Katia. È che Laura è molto confusa. Si è decisa a sposarsi e ora, sai, con tante cose da risolvere ovviamente si è un po' appartata. Bene. E soltanto a Laura poteva venire in mente un matrimonio così da un momento all'altro. No, no. I problemi ce l'ha con i vecchi. I vecchi sono furiosi perché non vogliono saperne niente di questo matrimonio. Capito? Oh, ma la sua età nessuno glielo può impedire, no? Avanti, infilati, su. Salve, come va? Bene, benissimo. E questa ruota che non si riesce a... Aspetta, mi pare... Sì, è andata. Ecco, Junior, è fatta. Bene, bene. Ti ha aggiustato l'auto? Guarda come gira, è perfetta. Ora è a posto, Junior. Va che una meraviglia. Gradisci un whisky? No, 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 grazie. Come sei bella. Scusami, ma ero distratto con l'auto e... non ti ho vista entrare. I complimenti sono sufficienti. Pronto? Sì, 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 è qui. Un momento. È per te, Edoardo. Digli che sono uscito. Fate lasciare un messaggio. Pronto? Scusi, è già uscito. Vuole lasciare un messaggio? Eh, sì, per favore, può dire al signor Edoardo che hanno telefonato dal suo ufficio? Che abbiamo un problema e c'è bisogno urgente di lui. Come? Ah, sì, va bene. Grazie molte. E adesso? Questo è morto. Mi ha detto di chiamarlo. Lo chiamo. E mi dicono che è uscito. Povero Edoardo. È molto confuso. Chissà se verrà. Lo voglio aspettare. E ora diamo una raddrizzata a questa che si chiama scatola dello sterzo. Dobbiamo metterla dritta e ci vorrà un po' di tempo, ma... Junior, ringrazio Edoardo. Credo sia ora che tu vada a dormire. Sì, 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 sì. Andiamo, Junior, che è tardi. E poi mamma deve uscire. Per favore, accompagnano nella sua... Sì. Che novità è questa? Su, su, perché non lo lasci restare ancora un po' con me? Ma è già abbastanza tardi per lui. E poi ti hanno telefonato dall'ufficio e allora... Ma no, gli impegni possono aspettare per il mio amico Junior. A meno che tu non abbia fretta. No, non ho fretta. Sono preoccupata per te. E Junior sta abusando della tua pazienza. No, ma che cosa dici? Anch'io quando ero bambino andavo matto per le automobili, lo sai? Ti piacciono tanto anche a te? Ti piacciono davvero tanto? Bene. Allora facciamo una cosa. Uno di questi giorni ti porterò sulla mia macchina. Io vengo qui e ti insegnerò a guidarla. Sì, ma adesso deve dormire. De lì, porta Junior di là. Su, su, da bravo, eh. Va bene, va bene. Allora ti propongo una cosa. Se ti accompagno io, ci vieni? Perfetto. L'automobilina non possiamo mica lasciarla qui tutta sola. Su, andiamo. Su. Allora, dov'è la sua stanza? Da questa parte, venga. Bene. Andiamo Junior, andiamo... Vi accompagno io. No, 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 no. Questa è una cosa da uomini. Eh? Su, andiamo. Allora, che te ne sembra? Veramente io non capisco, mamma. Sembra che lo conosca da sempre. E il dottore ha detto che forse il suo trauma dipende dalla mancanza del padre? No, mamma. No, 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 non credo. Perché non ho mai visto Junior appendersi al collo di papà così... così come con lui. Di papà sembra che ne abbia paura. Hai visto? Nella sua camera, tranquillo, con la bambinaia, senza nessun problema. Io, io vado a vedere se ha bisogno di qualche altra cosa. Posso offrirti un whisky? Sì, grazie. Io, io non ti ho detto mai niente. A riguardo a che? A Junior. Come no? Mi avevi parlato di lui. Sì, ma non ti avevo detto che lui ha questo problema. Quale problema? Che... che non parla. Non ha nessun difetto. Il dottore dice che lui non ha difetti. È solo un problema psicologico. Soffre di un... di un blocco che gli impedisce di parlare. Come non parla? Ma noi finora ci siamo capiti perfettamente. Giuro che... che non me ne sono accorto. Sei molto gentile. Oh, ma che gentile. Sai cos'è? Che forse io parlo così tanto che non faccio parlare gli altri. E poi la sai una cosa. Io sono convinto che... l'importante sia capirsi. Non è vero? Allora, vado a mettere la macchina in garage. Le valigie le togliamo domani. Guarda se c'è l'auto dei ragazzi. Sembra che non siano ancora rientrati. Sì. Chi è? Oh, Laura. Come stai, piccola mia? Bene. Che ore sono, mamma? Le tre di notte. Le tre? Sì, sai, io e tuo padre siamo partiti tardi da Santa del Miro. Perché non avete dormito lì e non siete partiti domattina? Perché ci sono molte cose da sistemare. Mamma, dimmi la verità. È vero quello che mi ha detto Kike? Eh, che ti ha detto? State organizzando una gran festa, un fastoso matrimonio, un sontuoso ricevimento. È vero? Beh, sai, in parte sì. Sì. E sai perché? Perché? Perché prima di uscire ho saccheggiato le tasche di donna Amalia. Tieni. E tu non vieni? Sì, ma devo fare una telefonata. Aspettami al bar. Va bene. Cos'è? Sì? Mettila a posto. Va bene. Ecco. E vai a dormire che è tardi. Va a dormire. Ciao, a domani. A domani. A domani. E così? Domani è il grande giorno. Mi sposo, lo sai? Mi sposo. Sì. E sai con chi? Con Lauretta. Lauretta. Tu la conosci? Quella bambina che guardavamo giocare dalla collina. Ti ricordi? Non ti ricordi, ti dico di sì. Ora sono l'uomo più felice della terra. Il più felice. Mi sembra quasi impossibile. Faremo una bella luna di miele. Viaggeremo e viaggeremo. Sì, ci puoi giurare. Però volevo dirti di non preveniarti. Ci sarà Tito ad accudirti. Ti tratterebbe bene perché ti ama molto. Sai perché ti dico tutto questo? Perché sei mio amico. Sono... Sono molto preoccupato per questo. Ho paura di non poter far felice Laura. E se questo accadesse a me con io... Mi sentirei l'uomo più infelice della terra. Il più disgraziato. Andiamo. Andiamo. Buonanotte. Buonanotte. Bye. Lo toriamo, eh? No. E dormi bene. E dormi bene. Avvocato, io rimarrò fuori stanotte. Devo andare a Pina Mar. Qualunque persona chiami, dica che io torno domani. Se permette, devo dare le istruzioni all'autista. Va bene, signora. Ho bisogno di poter contare su di lei ora. L'auto è pronta? Sì, è pronta per partire. Perfetto. Andiamo lontano? Più o meno. Bene. La valigia. Adesso possiamo andare. Bene. Io penso che sia tutto uno scherzo. Allora credi che Laura si sia inventata tutta questa storia solo per castigare cos'è Roberto? Senti, castigo peggiore di tutti i pugni che gli ha dato quel contadino non ci può essere. Mario, per favore, un succo d'arancia. Certo che i pugni gli hanno fatto bene, anche perché adesso o sta facendo giochetti o si è veramente innamorato di Laura. Vorrei sapere come finirà tutto questo. Non preoccuparti di come finirà. Quando verrà Kike ci faremo raccontare tutti i dettagli. Anche perché Kike, con due drink in corpo, non la smette mai di parlare. Scusa, ma... Cosa c'è? E quel succo è mio. Oh, è il tuo, scusami, ti prego. Devo essermi sbagliato, perdonami. E adesso come facciamo? Io l'ho già bevuto. Te ne prendo un altro? No, 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 non ha importanza, grazie. Ma no, mi importa invece. Adesso che stai per bere nel mio stesso bicchiere saprai tutti i miei segreti. Ah, non c'è nessun problema. Se i tuoi segreti sono compromettenti ti prometto che non li saprà animaliva. Credi che Kike tornerà tardi? Ehi, Raffa. Eh? Di che stavi parlando? Di Kike, di Laura e del suo matrimonio. Ah, non sai parlare d'altro. Ci sono cose molto più importanti qui in discoteca. Pensavo non tornassi più. Ah, certo. Scusami, scusami se te lo domando, ma tu... Tu chi sei? Ma Frank, sono Lilian. Lilian? Ah, Lilian, sì, Lilian. Sì, ci siamo conosciuti due mesi fa. Ma sì, certo. Ti ricordi che mi hai lasciato le chiavi del tuo appartamento? E mi hai detto che potevo venirti a trovare quando volevo. Ma sì, sì, certo. Sai, ero in viaggio, ma ora sono tornata a farti una visita. Molto bene. Ho preso ogni precauzione. Ah, sì? Per primo ho staccato il telefono. Ah. Che ne pensi adesso? Eh, va bene, Lilian. Va bene, molto bene. Io non ci credo. Pensi che sia questa la ragione del loro matrimonio così improvviso? È talmente vero che Tati è rimasta in casa con la valigia già pronta. Perché? Beh, ma perché se Laura ha telefonato dicendo che domani si sposa, o in mattinata o in serata, avrà già organizzato tutto e nella sua fattoria sarà celebrato il matrimonio. Guarda, per la verità io penso che sarà un matrimonio molto interessante. Bettina, io vado a cercare Bruno, d'accordo? Ehi, ciao, ti stavo cercando. Perché? Volevo sapere se ti avevano impressionato i miei segreti. Niente affatto, tu sei uno dei tipi più mediocri che abbia mai conosciuto. Ah, e cos'altro hai scoperto di me? Ho scoperto che sei molto superficiale, che non ti piace studiare. No. Che sicuramente possiedi una moto. Ah, sì? Che hai un papà che ti mantiene e che il tuo habitat naturale è la discoteca. No, aspetta, avrei parlato con mia madre. Chissà cosa ti ha detto quella. No, non l'ho conosciuta. Come ti ho detto, tu sei il classico prototipo del tipo medio che viene in discoteca. Dovremmo incontrarci un po' più spesso. E oltre a fare l'indovina, che cosa fai nella vita? Io studio filosofia. No, non ci credo, tu una filosofa. E non mi dire che tu, che tu studi veramente filosofia. Sembra proprio che anche tu conosca mia madre. Perché? Ma lascio perdere. Che ne diresti se ballassimo un po', eh? Non posso, un'altra volta. Sto cercando mio fratello per andarmelo. Domani mattina alle sette e mezzo devo essere già in facoltà. Ciao. Che schianto. E non ho saputo neanche il suo nome. E non ho saputo neanche il mio fratello per andarmelo. Belli! Come mai sei rientrata così presto? Francamente non me la sentivo di rimanere in giro fino a tardi, no? Ti senti male forse? No, 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 so benissimo, ma è che... Ho litigato con Riccardo. Oh, e com'è successo? Che ne so io. Ti ha fatto uno sgarbo? No, 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 mamma, non mi ha fatto niente. Soltanto che qualche volta non riesco a sopportarlo. Ecco tutto. Belli, che cosa ti sta succedendo? Ti arrabbi subito per un non nulla. No, no, non mi sono arrabbiata. Io ho solo detto che ero stanca e che volevo tornare a casa. Sai, amor mio, penso che dovresti avere un po' più di pazienza. Gli uomini qualche volta diventano molto esigenti, ma il dovere delle donne è quello di rigare dritto. Sì, certo, noi altre dobbiamo sempre rigare dritto, mentre loro fanno quello che gli pare e se ne fregano, no? Mamma, francamente questo non lo posso capire. Amore mio, capisco, capisco che per te sia difficile, perché gli uomini sono degli esseri particolarissimi. Ecco, prova a pensare a Dardo. Edoardo è un gran bel ragazzo, il che è importante. E poi è un tipo piacevole, però è un pochino strano. Secondo me direi che è un po' timido. Solo un po' timido, dici? Mamma, senti, parliamoci chiaro, è solamente uno squallido. Che cosa vorresti dire con questo? Non ti capisco. Forse ha un accento un po' particolare, però questo può dipendere dal fatto che ha vissuto molti anni in Europa. Te l'ha detto lui questo? No, no, però suppongo che qualcuno che ha tanto denaro come lui, che è una persona così fine, e parli in questo modo perché ha passato molto tempo in Europa. Se hai vissuto molto tempo all'estero, perché allora non c'è rimasto? Si può sapere perché sei così dura e aggressiva con Edoardo? Al principio eri rimasta incantata, ma ora che mi sono fidanzata con lui hai cambiato opinione. No, 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 mamma, io pensavo fosse quello giusto. Quando hai cominciato ad uscire con lui mi sembrava fossi diventata più calma, più serena, che finalmente avessi trovato il compagno giusto. E poi che cosa è cambiato? No, 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 mamma, non è cambiato niente. Va tutto bene. Solo che io... Vuoi sapere qual è il problema? Io penso che la mia rabbia non sia solo contro Dardo o Riccardo, ma sia contro tutti gli uomini. Belli, tu devi... Tu devi cercare di cambiare questo tuo modo di pensare. Se no, amore mio, rischi di diventare una vecchia zitella. No, no, non è così. Nella vita ci sono anche uomini buoni, e donne buone. È solo una questione di fortuna. Provare la persona adatta a sé. E io fino ad oggi non ho conosciuto un solo uomo che non fosse egoista, mamma cara. Sono tutti quanti una massa orrenda di viziati, ipocriti e di bugiardi. Oh, ma che cosa sta succedendo dentro di te, mia cara? Lascia perdere. Ne parliamo domani, va bene? Mi pare che oggi non sia davvero una giornata adatta. Scusa. Scusa. Buongiorno, signora Finita. Buongiorno, cos'è? Stamattina si è alzata presto. Sì, ho moltissime cose da fare, e c'è da mettere in ordine tutta la casa. È arrivato qua? È uscito molto presto, è andato dal fioraio come lei aveva detto. Dobbiamo assolutamente cercare di rimettere a posto la casa più o meno per l'ora del matrimonio. E lui che ci fa qui? Ah, lui... Ha dormito lì. Oh, ci mancava solo questo. Andiamo, chicche, chicche. Svegliati, chicche, che ora? Che succede? Andiamo, forza, alzati, svegliati, che io ho da fare qui. Alzati, che sono le sei. E io ho da fare. Cosa? Ma perché mi avete fatto dormire fino adesso? Sono le sei del mattino. Che? Ma sei pazza a svegliarmi a quest'ora? Lasciami dormire. Chiche, alzati. Se vuoi, vai a dormire in camera tua. Io ho da fare qui. Devo mettere a posto per il matrimonio. Così è oggi che ci sarà il matrimonio. Però potresti anche venirmi ad aiutare. No, no, mi dispiace, ma sono tutto stordito e fuori fase. Mal di testa che mi scoppia il cervello. Se non dormo un altro po' crollo. Puoi contare su di me da mezzogiorno in poi. Se proprio ne hai bisogno a mezzogiorno chiamami. Sempre il solito. Ha deciso cosa vuol fare qui in salotto, signora? Bene, penso che dovremo spostare il tavolo e metterlo qui. Certo. Sì, così il giudice di pace può fare la cerimonia. E donna Milù? Sta molto male. Ma assisterà al matrimonio? Ma sì, certo che assisterà. La metteremo lì, seduta su una poltrona davanti agli esposi. Così potrà assistere alla cerimonia. Ma d'altronde è anche colpa sua se si fa tutto così di corso. Ah sì, certo. Oh, Quang. Buongiorno, signora Finita. Buongiorno, Quang. Sono stato dal fioraio. Ho trovato tutto quello che lei voleva. A che ora porteranno i fiori? Mi hanno assicurato che saranno qui fra poco. Ti sei ricordato anche della pianta? Sì, porteranno tutto insieme. Se ne serviranno ancora, basterà che lei le dica. Bene, bene, molto bene. Allora, Cosefa, adesso vai a chiamare i ragazzi che devono organizzare il salone. Sì, stanno già aspettando in cucina. E io, signora Finita. Avrò bisogno di te per spostare i mobili. Il tavolo va messo qua e le sedi in fila per gli ospiti. Va bene. Eccoli qua, signora. Bene. Allora... Ecco. Aiutami. Tanto bella Non mi devi lasciare qui Senza dirmi dove vai No, 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 no Non mi devi trattare così Un cretino che molli qui Credimi, Dardo De lì te ne ha dette di tutti i colori Che razza di sfortuna Dovevamo pensarci che poteva accadere Dovevamo andare in un altro posto e non in quella discoteca Andare in un altro posto? No, è stata solo una terribile coincidenza Che lei stesse in quel locale a quell'ora E così ha detto che sono uno squalido Ha detto che eri così squalido per mancanza di spazio E tu cos'hai detto? Niente, cosa avrei dovuto dire? Ho continuato a ballare sulla pista Ecco, ti ho preparato la crostata Stamattina avevo preparato anche i biscotti Ma Carolina se li ha portati in facoltà Aveva lezione alle sette e mezza Insomma, mi sono comportato in maniera sporca Cos'è sporco? La camicia, mamma E anche i pantaloni sono tutti sporchi Bisogna farli bollire per togliere il grasso Vuol dire che domani preparo il fuoco nel giardino E poi li metto a bollire E non lo faccio in cucina Perché se no mi rimane tutto l'odore della nafta Va bene, va bene Certo, certo, mamma Altrimenti il prossimo dolce sarà una specialità alla nafta E adesso che cosa posso fare, eh? Lei lo sa che è tutta una bugia E l'avrà raccontato alla madre Io sto facendo la figura del bugiardo Ma te ne rendi conto? Credo che la chiamerò e le spiegherò tutto Senti, Dardo Se vuoi una spiegazione definitiva Devi andare tu a casa sua E parlarle personalmente, con lealtà Altrimenti finiscila, taglia i punti Meglio sparire dalla sua vita Una volta per tutte, ti pare? Sembra facile dirsi Quello che non sai è che... È che... Vi ho preparato un buon caffè caldo Proprio come piace a voi Grazie, mamma Allora, di che cosa stavate parlando? Ah, roba da non crederci Dardo stava dicendo che vuole mettere a posto l'officina Che? Che cosa vuol dire mettere a posto l'officina? Ma se con il lavoro che hai non sai più neanche come fare E anche se ci fosse un dipendente in più Te lo dico io che succederà Che l'unico che andrà a lavorare Sarà Dardo Perché anche con un dipendente in più Questa non mi sembra un'officina meccanica Ma piuttosto un'orchestra con tutto il corpo No, ma calmati Stai tranquilla Lo sai che mi succede? È che io ho ancora molte cose da dirle Molte cose da spiegarle Certe cose che io sento qui dentro E che... Ma che ne so io? Vuoi sapere cos'è? Una cotta Nient'altro che una grossa cotta Beh, io devo andarmene Bruno Tu sei mio fratello Dimmi la verità Sono un tipo banale io Ma di che stai parlando? No, 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 no Dimmi la verità Sai qual è il problema vero? È che hai avuto sempre contatti Solo con la gente del quartiere Non hai studiato Ma poi tutto questo non è così importante Va avanti Voglio dire che Delle superiori Hai fatto i primi due anni E poi niente università E così hai questa maniera Strana di parlare È così semplice Bruno, ma in tutta la mia vita io ho parlato questo Ma sì, Dardo È a te che sembra così Vuoi vedere in faccia La realtà La colpa è tua Sì, la colpa è tua E lo sai perché Perché Se ci mettessi un po' più di attenzione Se tu Riuscissi finalmente a parlare Senza fare errori In fondo quello che ti manca È solo un po' di attenzione Sì Mi manca qualcosa Ascoltami bene, Dardo In fondo A dire la verità A te non manca niente Sei una persona leale Schietta E ti trovo in gamba Credo sia importante sapere cosa pensa tuo fratello di te E se E se qualcuna si innamorerà sul serio E vedrai che accadrà Lo farà per quello che sei Perché vali Tutto questo problema Per una Scemetta da discoteca Che Va in giro a sparlare su di te Ma dai Forza Lascia perdere Non li sentire Non gli dar retta Beh adesso devo andare Ciao mamma Ciao caro Bruno Sì Hai preso la merenda Ma dai non ti preoccupare Perché se n'è andato correndo? Che succede? Succede che Bruno aveva paura che tu arrivassi con i biscotti da portare all'università Perché? Sono così cattivi i miei biscotti No non è per quello mamma Credo che portarsi la merenda all'università Non è elegante È volgare Io credo che A volte possiamo creare dei problemi a Carolina e a Bruno Io non ti capisco Non so perché dici che gli creiamo dei problemi E poi quali problemi? Eh mamma Che noi facciamo vita di quartiere Non conosciamo nessun altro E quindi Ci preoccupiamo solo Di sopravvivere Di andare avanti giorno per giorno Io e te siamo quella gente che Bruno e Carolina Chiamano ordinaria Sai che c'è Siamo i volgari della famiglia Siamo i volgari della famiglia Papà, sei lì? Sì, sono qua, ma adesso ho da fare Che c'è? Guardami Sì Allora, sto bene? Sì, sì Sai che sembri vestito così? Sembri un fidanzato Guarda Che altro c'è? Ti sei tolto la barba? Sì Con il tuo portamento sai a chi mi fai pensare? Sì A tuo padre Papà, andiamo che è tardi E dove? Ma come dove? Al mio matrimonio, siamo già in ritardo Chi che aveva promesso di aiutarmi a vestirmi ma è scomparso Chissà dove è finito Io lo so perché voleva venire Era preoccupato per come ti saresti vestito Perché ti dovevano vedere i suoi amici La gente di città, la gente molto distinta Però siccome adesso ci viene solo la gente del paese E' vero, andiamo Ma che significa? Anche loro hanno dei problemi In fondo il matrimonio è stato fatto di corsa Già, vieni con me Ah, senti Questi sono un po' di soldi, eh? Perché? Ma per te, no Per il viaggio di nozze E non spendere tutti Conserva qualche soldo E se tua moglie spende molto di più E questi non bastano Mi avvisi per telefono e te ne mando altri Ma noi rimarremo fuori una settimana Il denaro che ti ho dato Basterebbe per vivere per sei mesi Però tu sai la situazione Vedrai l'albergo che è stato prenotato È una sciccheria ed è costato un occhio della testa Sì, va bene, grazie Andiamo No, aspetta Che c'è? Tito, vieni Sono pronto, Tonio È lui che c'entra adesso, eh? Sta bene così? Cosa? Per il matrimonio Lui viene al matrimonio È ovvio, è un mio amico È un mio amico, no? È va bene, portalo al matrimonio Però dimmi una cosa Non vorrai mica portare anche il tuo cavallo al matrimonio Per un pelo non lo porto Per un pelo Pensa come sarebbe felice di vedermi ballare con Laura Diglielo anche tu, Tito Non è vero? Ma sei cretino Ma non dire bestialità Perché se tu continui a dire bestialità Vorranno sicuramente centuplicare la dote Quale dote? Eh? Quale dote? È uno schizzo, Tonio È uno schizzo Non c'è nessuna dote Stava scherzando Andiamo Su, andiamo Andiamo, Tito, che è tardi C'è Laura che mi aspetta Buona sera, dottore Buona sera Venga, se acorde Grazie È in casa la signora? No, non c'è È uscita? Sì, da ieri Da ieri? Nel pomeriggio E l'avvocato della signora? È lì che sta leggendo Ah, grazie Di niente Buonasera Buonasera, dottore E la signora? Mi hanno detto che è via da ieri Esatto Ha chiesto la macchina ed è uscita Sola? No, con l'autista E con nessun altro? Nessun altro E dove è andata? Non lo so Ha detto solo di non preoccuparsi Perché appena era possibile tornava Ma non sa dove è andata? Anche a me piacerebbe saperlo È incredibile, no? Che una persona possa partire così Repentinamente Col tempo si abituerà alla signora Ha sempre queste abitudini misteriose A quanto pare lei la conosce molto bene No, dottore Credo che nessuno al mondo la conosca bene Qui seduta qui E fate attenzione per favore Così sta vicino agli sposi Ecco Bene arrivata zia Milù Dottore, come sta donna Milù? Sta molto meglio Però è bene che in questo periodo si riposi un po' Non sarà un'emozione troppo forte per lei Assistere al matrimonio della nipote? Sarebbe molto peggio per lei Non essere presente a questa cerimonia D'altronde si è fatto tutto così in fretta per causa sua Scusate, mi torno subito Prego Allora zia Milù, tutto bene? Sì, sì Finita? Ma non doveva esserci una grande festa? Hai ragione zia Milù Ma poi abbiamo deciso di fare come ha chiesto Laura Se la volontà di Laura è di Tonio Va bene Cos'è che la preoccupa, dottore? Ci mancherebbe solo che Che lo sposo fosse in ritardo Ma è molto presto, dottore C'è ancora una mezz'ora di tempo per il matrimonio Sì, sì, sì Però sarei più tranquillo se fosse già arrivato Signora finita E la sposa, Lauretta? È in camera sua a prepararsi Sì, a proposito vado a vedere come stai Se ha bisogno di aiuto Bene Con permessa Sì, certo Juan? Sì, signora Quando arriva lo sposo avviso Bene, signora Dov'è Laura? Oh, signora, è finita Se glielo dico Lei non mi crederà Ma dov'è insomma? È scesa giù dalla finestra Qualche minuto fa È scesa dalla finestra? Ma è completamente impazzita Gli ospiti sono di là aspettando Che arrivi lo sposo Lei se ne va a cavallo È quello che ho detto anch'io a Laura Ma invece di mettersi il vestito Si è messa i pantaloni Ha detto che voleva fare una corsa a cavallo E che sarebbe rientrata per l'ora del matrimonio Oh, signore mio Laura non torna per l'ora del matrimonio Teodoro mi ammazza Dovrei avere il coraggio di andarmene Di finirla con questa pagliacciata E trattare loro nello stesso modo in cui hanno trattato me Sarebbe divertente arrivare nel salone Nel momento in cui il giudice mi chiede se voglio sposarmi E dirgli un sonoro no Lo meritano tutti quanti A cominciare da questo contadino Che finge di essere innamorato di me Mentre in realtà lo è di Rosita Sì Sarebbe proprio divertente Vedere la faccia di mamma Di papà E di quello squallido a rivista Mi stavo dimenticando di zia Milù Lei non resisterebbe a questa scena In fondo Ho ancora rispetto per qualcuno Per zia Milù Ormai siamo già in ritardo Sì ma a tutte le spose piace tardare un poco Anche se il matrimonio si svolge in casa Sì certo E il dottor Teodoro? È in biblioteca a parlare con il padre del fidanzato Staranno sicuramente discutendo della dote Papà è molto generoso e prodico per queste cose Eh no Mi dispiace veramente molto dottor Teodoro Però no Quando i due ragazzi si saranno sposati Noi altri Da voi veri centiluomini che siamo in realtà Ci scambieremo i documenti Io vi darò il contratto Per la proprietà della fattoria di Sant'Esteban E voi mi darete quella dichiarazione Firmata da Laura Davanti a un notaio Dove dice che se entro un periodo Di quattro anni Per una causa o per un'altra Si dovessero separare Ritorna tutti in mano mia In fondo potremmo farlo adesso questo scambio Faciliterebbe molto le cose Voi non vi dovete preoccupare Aspettiamo che si siano sposati Che abbiano fatto il loro viaggio di nozze E poi noi avremo tutto il tempo Di parlare dei nostri affari Adesso però andate a chiamare vostra figlia Per cominciare Questa cerimonia ci vuole la sposa, no? Le sposine ritardano sempre a vestirsi Beh sapete dottore Io non lo dico mica per me Lo dico per quella povera vecchietta Della zia Milù Non sta bene E poi con tutta quella getta intorno In salotto E poi dottore Devo dirlo Sono un po' preoccupato Di tutto questo ritardo, eh? Non è bello quello che lei dice Ma pensando a zia Milù Credo che lei Abbia ragione Andrò a far sbrigare Laura Bravo dottore Così si parla Dunque Avete parlato molto E ormai è tutto quanto a posto Chiche, fammi un grosso favore Sì, come? Fai pure partire il disco O quello della musica noziale Perché sta per entrare la sposa Vuol dire che Laura è pronta? Sì Suo padre è andato adesso a chiamarla Vai, vai Scusate, permettete Grazie Sì, stanno Tony Sì, papà Scusa, finiamo dopo Senti Devi prepararti adesso, eh? Mila è ormai tutto pronto Sì Sai, il padre è già andato a chiamare la sposa Sbrigati, su Vai di là, vai Ma calmati papà, sta calmo, eh Tony, io ti ho detto di andare a metterti di là Accanto al tavolo dell'intendente Però prima Sì Cerca chicche e digli di avvisare il giudice di pace Che la cerimonia sta per cominciare Sì, va bene Vai Sì Chi è? Sono io Permesso Laura? Dov'è Laura? Ha finito di prepararsi? Laurita è uscita Cosa? Sì, ha detto a Sefa di aspettarla e che lei sarebbe andata a fare un giro a cavallo Ma allora è proprio matta Un giro a cavallo il giorno del matrimonio, ma quando è successo? Circa mezz'ora fa No, 40 minuti Ma è matta sul serio Bisogna assolutamente inventare una scusa Intanto io vado a cercarla con la macchina A cavallo non può andare certo la sala Aspetta Teodoro Perché? Non possiamo fare uno scandalo Vedrai che tornerà E se non tornasse? Dalle un po' più di tempo Da questa scala si arriva in camera di Kikeve Sì, signorina, ma faccia presto, le stanno aspettando Io vado a cercarla Laura, ma dove diavolo? No, 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 papà, piantala Non parlare, non fiatare, non dire niente Se no la tua cara figlia Laura passa Hernande Sagherra e non andrà a sposarsi Ma da dove vieni? Dove sei stata? Come sei entrata? Ma se non sono potuta entrare da questa finestra perché è chiusa È evidente che sono entrata da quella di Kike Senti, papà, esci, devo cambiarmi Sbrigati, per favore Devo anche sbrigarmi Se qualcuno mi vuole, che mi aspetti Kike, ferma la musica Sì È successo qualcosa? No, 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 Laura si è sentita poco bene Ma ormai avverti gli ospiti che stiamo...